ciao amici forse è bene che io tolga l'audio ok che devi togliere l'audio? perché sono su twitch se no si sente c'è il do c'è il do oh no oh no oh no oh no diretta 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 però c'è truncato perché l'arro è così? sono salvato i video è morto ah il 26 ottobre scade ok che cosa? devo rifare la cosa della bar io volevo fare i cazzitoi scusa il coso dell'abbonamento twitch oh no così si vede la scaletta Bruno l'ascondila oh mio dio i nostri segreti no infatti non ce l'ho ciao ciao che succede? abbio occhio che siamo online ora non posso dire però puoi dire la parola con la n nintendare 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 l'ha freddato che ti succede Fabio? perché sei infortunato? penso ho fatto male alla spalla sta facendo palestra? mh mh e che fa? se carichi carichi poi ti fai male ecco che esercizi? un po' tutti quelli di spinta quindi anche che carichi ti sei fatto male con tutti gli esercizi tipo facevi male aah eppure facendo un altro aah si infatti c'è stato un momento che hai detto ah no no mi fa male mi fa male da tempo e oggi mi ha fatto più male ancora hai ignorato il dolore come un vero uomo ah se no mi devo fermare proprio no no si guarda in effetti anche io c'è stato un tempo che facevo pesi poi mi ha fatto male non mi ricordo su un braccio una spalla qualche cosa e da loro non ho più fatto quindi non di buon auspicio no non li ho più fatti da stavano stavano quant'è? 40 anni anni fa no no 5-6 anni fa pensa mi avevo comprato tutte le attrezzature i pesi i manubri eccetera eccetera mettevo davanti allo specchio e jumpy come? stai parlando con me? ciao stai parlando con me? non c'è nessun altro qui è jumpy è jumpy 21 07 ah jumpy pensavo jumpy 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 è tornato dal mondo dei è vivo è morto jumpy no? mi pare che sia vivo spiegami come è che quando vai su un G plus che fanno la trasmissione alle 4 di notte è tutto pimpante è morto 6 anni fa jumpy credo che sia perché ho superato la cosa del sonno io ho tipo l'abbiocco il free plank alle 9 ciao ragazzi sono sì 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 ma guarda che davvero cioè perché tipo alle 3 di notte ciao ragazzi siamo su NG plus e infatti no ma in famiglia abbiamo un orario dove iniziamo tutti ad abbioccarci poi superato quello si può andare avanti all'infinito o quasi e poi invece c'è tipo c'è un momento in cui c'è la morte tipo dalle 9 e mezza fino alle 11 e dalle 9 alle 10 e mezza una roba così c'è il cosiddetto si chiama abbiocco bigio lo chiamiamo a b quindi a b ma tipo cioè è un abbiocco post mangiato o è un abbiocco perché no no generico no no ho mangiato un bel po' di orefo come un bel po' di orefo ancora ceni scusa le 3 e mezza ma lo c'ho fame che cazzo le risposte è c'avrai ma dipende sì no penso di aver cenato intorno alle sì 7 e mezza 8 eh sì di ieri però esatto no no non è abbiocco da cena è abbiocco da esistenza poi mi ecco sai l'altra cosa se non parlo per molto tempo e poi inizio a parlare inizio a sbadigliare vabbè quello è è un rischio che non corriamo quindi eh no ma in realtà oggi ho parlato cioè quindi stai dicendo che devi parlare sempre tu credo che siano le prime persone con cui parlo oggi a parte te stesso no a parte chiunque sì no cos'era questo scusate qualcuno si soffreva il naso mi ha scorreggio sì sì mi ha scorreggiato il naso tornato oggi a Bolzano da Palermo oggi Giulio ancora spinestata da voi ma qua la facevano 21 gradi oggi dico stasera fa fresco 8-19 cioè sta fresco ma buon ragazzi allora vado a pisciare faccio un caffè vado a pisciare e niente e niente il compito il compito il compito il caffè però non potete evitare il compito Bigio racconta che cosa hai mangiato così ti tieni sveglio non addormentare no 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 ma mica mi addormento sbadiglio e basta non c'ho sonno sono sbadigliato ecco cosa che ho mangiato che mi sta uccidendo no non è vero è davvero mi succede così spesso che se non parlo per molto poi parlo sbadiglio ho mangiato come ti ho scritto però delle Pringles tra l'altro e solo ma che cazzo no no anche altro ho mangiato la verdura una mozzarella di bufala ma io manco da universitario mangiamo ste robe così a cazzo di cane vabbè cioè nel senso adesso non mangiavo Pringles da mesi mesi e mesi adesso però mi sembra che dell'insalata e una mozzarella di bufala non è che sia proprio così oddio che merda cioè sembra cibo abbastanza normale basico hai sentito Ale Max per domani sì sì te l'ho scritto ah sì sì porca butta ma dove l'hai scritto l'ho scritto sul sul gruppo su facebook eh scusa adesso però io eh non ti preoccupa sei 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 pronto per mercoledì che è successo mercoledì cosa c'è ah a casa sì porca miseria madonna mi vado a vedere casa vado a vedere casa ah addirittura speriamo bene che non sia disastrata che non siano aumentati i prezzi e via è domani il rant su scorn però secondo me oggi non potremo esimorci un pochino ma sì ci abbiamo giocato più o meno tutti credo sì sì no no ci abbiamo giocato davvero un po' tutti io poco però sì io l'ho finito io l'hai finito ho arrivato quasi alla fine Max ho sconfitto cioè ho sconfitto tra virgolette gigantone quel mostrone gigante lì faccia del merda per capicci quello che c'è a tutte dove sblocchi il labirintino da fare sì ok sì sei praticamente alla fine ma non mi va a definirlo ti piace così tanto che non vuoi che finisca esatto proprio deve essere per quello aggiungere dei commenti è proprio così ah vedi The Pringles Salt and Spice no io avevo quelle cose smegma e onion se non mi ricordo ah sour cream e onion ma che buono però se ho riuscito a mangiarne solo a metà senza fare come al solito e onion onion è la parte peggiore che lo mangio tutto e poi sto male per dei giorni stavolta ne ho mangiato solo a metà e mi sono trattenuto sono orgoglione di me stesso domani esce Black Tales e me ne fregasse qualcosa l'ho già scaricato ah ti puoi già scaricare ma te dal Game Pass eh sì da un po' che si può scaricare quanto pesa? 50 più di 50 cica e poi c'è un aggiornamento di 10 cica Fabio ma la devi comprare o la devi affittare? no 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 è un affitto cambio ma sai che non sono riuscito mai a finire il primo perché poi l'hanno tolto da tutti i servizi quindi mi ha avuto il culo eh io sto pensando se giocarlo o farmi prima il primo cioè ha senso fare prima il primo? eh penso che sia un sequel diretto è un sequel diretto quindi devo farmi prima il primo è un sequel diretto non ti permetto a me non è frega niente io provo e basta mangi un mandarino che è meglio grazie Brothers Club Live chiunque tu sia caffè tu sei bevuto bro oppure ancora no no è che c'ho non lo so che cos'è è il moccio cosa c'hai? si si moccio hai parlato anche tu non hai parlato anche tu tutto il giorno e adesso ti viene da sbadigliare come a me no no non sbadigliare è il del 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 Jack è l'ultima puntata potrebbe potrebbe essere Jack quindi rimani sintonizzato è l'ultima puntata di questa settimana di questa settimana per sempre no veramente per Biggio è la prima c'è qualcosa che mi dovete dire per Biggio questa è la prima della settimana perché poi domani non stacchi mercoledì cosa c'è i beceri giovedì dimenticato calendario di impegni fittissimo sì sì interessanti impegni di stato giovedì 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 gnocchi è fuorregistrato qualcosa giovedì scorso sì abbiamo giocato overcook overcook esatto venerdì ng plus e poi l'isi mi ha detto che sabato e domenica posso riposarmi e quindi io eseguo è quello che mi ha detto lui esatto giovedì varsport pensavo anche di infilare in qualche podcast del quale non so niente però il Cagliari quest'anno è comunque la stagione del campionato proprio sono un Cagliari per sapere cosa è il Cagliari credo che sia in Serie B tra l'altro io sono quindi non ho capito Fati ti compri casa no cambio casa sto cercando un'altra affitta una casa più grande in zona una casa più grande eh sì ci va ci va ti vuoi fare la palestra in casa magari purtroppo no è arrivato Riccardo oh no è arrivato Riccardo staccate il podcast stai finita c'è una c'ha storta vabbè si vuoi iniziare sì un secondo un secondo un po' spammato scusa se ho fatto un secondo un secondo un secondo perdone ma non mettergli fretta vedo che si sta un attimo ma non c'è quindi plug tail su game post domani domani del primo plug tail requiem è quello che ho chiesto anch'io plug tail innocence dovrebbe essere quello no innocence il primo eh appunto tu che sei appassionato della serie si può giocare il secondo non hai giocato il primo è già storia dai mi ha detto install now però poi mi ha detto anche che devo dare fai rispondere Matteo che ho chiesto si può giocare il secondo in teoria è un sequel diretto del primo quindi ho giocato poi se ti può guardare il riassunto su youtube è uguale alla fine non era proprio questo giocone imperdibile il primo è un ribellino si però abbastanza ripetitivo è una piaga è abbastanza ripetitivo spero che il secondo abbiano migliorato un po' il gameplay ho visto dei votoni e schivo sto caffè eh ho visto dei votoni perché oggi sono uscite le recensioni di quello è arrivato God of War Ragnarok a tutto il mondo ah si? non hai visto lo spam di foto c'è arrivato God of War Ragnarok purtroppo sono un po' fuori dal giro non me le mandano a me queste foto va bene va bene io direi Bruno si fa abbastanza cacà cioè no ma perché c'è il fatto che con la caffettiera quando finisce l'acqua si blocca allora poi devi aggiungere l'acqua e o cambi pure la capsula oppure riutilizzi la capsula che non è stata scapsulata tutta quanta e quindi te la allunga un po' e viene un po' una merda però vabbè ok vogliamo iniziare allora iniziamo? dai ok 3 2 1 la sigla kit è morto la sigla del kit è morto la sigla kit è morto free plank perché mi hai messo il cupitiello che è il cupitiello? ah quel coso dove si mettono il coso di contrabbando per mettere il caffè normale allora stacchetti ecco qua ecco qua ecco qua quanto dura questo? 2 minuti e 57 un po' troppo lungo come sigla beh eh sì sigla sigla che cazzo poco più di scorn ah no di Mario Rabbids non più ha senso sono uscite anche le review di Mario Rabbids ok attenzione 3 no 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 3 2 1 e cari amiche cari amici bentornate bentornati a una nuova puntata di free playing eh una puntata importante una puntata significativa perché era puntata 512 dopo la 511 512 come voi saprete vero Stefano? sì come io mostro come voi saprete 512 eh eh quello quello lì eh il totano nella chitarra 512 come tutti sanno è 2 alla 9 e quindi festeggiamo questa questa potenza del 2 era anche il numero di k che aveva la mica 500 e quindi grande un grande traguardo per noi di free playing adesso siamo come degli Amiga 5% anche noi vecchi molto con 4.096 colori tutti quanti sullo schermo RGB e niente io sono Bruno Albera con me ci sono Biggio Stefano ciao Biggio Biggio Stefano come stai scusa eh no scusa ma senti questo che non c'è il mio nome ridendo cioè si è allontanato di noi il microfono dal microfono dal letto prima il cognome e poi il nome sembra tipo ricercato dalla polizia è perché no è alla giapponese è alla giapponese che dicono prima il cognome poi il nome il Biggio Stefano si presentava alle nuove di secolo vabbè come c'è Biggio ciao Biggio Stefano scusa Cristo ce l'ho un nome non è neanche così Bruno Brian Damage 098 Stefano nostro Steve che è sta cosa qua vabbè il nostro Stefano e Matteo Bexoft ciao Matteo ciao ciao Matteo e Fabio di Felice ciao ciao Fabio e stasera perché volevamo dare il massimo abbiamo invitato anche Max ciao Max ecco qua ciao ciao tutti ciao e ciao anche ad Hpp è Massimiliano lui adesso ho detto Massimiliano quindi Massimiliano tu come vuoi essere chiamato Massimiliano si chiama Massimiliano scusi io mi chiamo Stefano io sono sempre chiamato Biggio Stefano così di punto in bianco questa novità ho sempre detto chiamate questa novità io voglio essere chiamato per nove che puntate hai detto chiamatemi Stefano tutte le volte c'è della nascita non è che devo dire che puntata una puntata a zero la puntata a zero di Stefano è dall'anno vabbè ma io volevo sapere da Max come lo avessi chiamato benissimo Max perché Massimiliano è decisamente troppo lungo e Massimo? no Massimo no vi prego decimo meridio? no quello no adesso ti chiamerò Massimiliano che è Massimo no? qual è il motivo di non Massimo? è un altro nome è proprio un altro nome non non ha problemi se ti chiami in un modo lui ti deve chiamare in un altro modo Max Massimo Massimiliano Ciccio Massimiliano no Ciccio 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 così in cio caso ma Ciccio è il diminutivo di tutti di metà come italiani sì come ti chiami? ah mi ha Gianfranco mi chiamo Ciccio così e quindi perché Massimo no? eh perché è proprio un altro nome non c'è zecca nulla col mio cioè è l'inizio se vogliamo metterla così però The beginning Massimo The beginning The beginning esatto quando faranno il prequel spero di no ma lo sai che mia madre mi voleva chiamare Massimiliano è un bel nome Giuseppe poi invece no Giuseppe è mia nonna si chiamava no no tua nonna si chiamava Giuseppe non è mia nonna no mio nonno si chiamava Giuseppe quindi ah e anche mio nonno si chiamava Giuseppe adesso facciamo come Superman e Batman ah Giuseppe ah che mio nonno si chiamava Giuseppe oh siamo i migliori amici della vita tu sei più caro mio amico che bel film però quando ero piccolo mia nonna mi chiamava Pippo da Bruno come ci si è arrivato adesso inizio a capire perché lei mi voleva chiamare Giuseppe e quindi mi hanno chiamato Bruno e quindi mi hanno chiamato Pippo ok ok no poi ti chiamerò Pippo all'altro Massimiliano e e mia mia madre mi ha chiamato Massimiliano però poi voleva ha detto no è più bello BB come Brigitte Bato e quindi mi ha chiamato Bruno e niente tutto qui puntate dicevo 512 ragazzi 2 alla 9 stasera abbiamo una scaletta ricca di eventi ricca di di news quindi andrei subito a a recuperarla intanto no proprio la stacco da qua così qua lascio le cosplayer a Zoz che ci Pippo Barbieri mi piace sì infatti un po' come Pippo Bato ci sta il PB e che tra l'altro mi pare che sia anche il nome di un panino americano il PB pancaticchia da come vuoi che venga chiamato io Max Massimiliano scusa ci penso un attimo ci penso un attimo salutiamo anche HP flowercraft che è il primo la prima volta che scrive ciao HP e ovviamente nickname ispirato dalle stampanti e ah è solo qua e niente dicevo stasera scaletta ricca io inizierei con il gentil sesso con quello che ho chiamato l'angolo delle femmine perché beh sì con tutti i protagonisti femminili la prima cosa è che la doppiatrice di Bayonetta 3 si è incazzata perché gli hanno offerto solo 4.000 dollari per doppiare Bayonetta 3 lei si chiama Elena Taylor le hanno offerto 4.000 dollari lei ha detto no sono troppi pochi e il ruolo è andato a Jennifer non lo so quella che ha doppiato anche Ellie mi sembra è così e ha invitato tutte le persone a boicottare Bayonetta 3 quindi non lo so Matteo tu lo boicotterai Bayonetta 3 eh sì perché per questa storia sì ok Stefano invece boicotta io ho boicottato anche gli altri guarda erano avanti Stefano sì io tra vedere e non vedere ho detto guarda io non mi fido di questa gente e adesso io boicotto e quindi no non è vero credo di aver provato il primo e il secondo neanche mi ricordo bene come quindi questo terzo proprio mi invita è una questione di vita o di morte per me a giocarci sì boicotto ma sì ma si sa in media quanto vengono pagati i doppiatori di giochi penso molto di più perché dopo è uscito un altro articolo mi pare di Italia Fares poi vediamo un po' Nintendo quindi lei era stata pagata molto di più per gli altri due no credo che sia stata pagata più o meno lo stesso però probabilmente arrivata al terzo ha detto beh mi pagate oppure vaffanculo e invece più che altro non gli danno le royalties quindi se il gioco vende un casino loro comunque vengono pagati sempre fissi ma dal resto cioè i giapponesi sono molto spilorci da sto punto di vista nonostante che hanno sta super cultura dei super doppiatori pure loro cioè pure per o forse il razzismo verso i doppiatori ma forse mi intendo o forse no ma perché pensavo anche a Konami che ha rifatto tutto il doppiatto di Saren't 2 e 3 pur di non pagare i doppiatori originali cioè proprio non vogliono dare soldi a delle persone le vogliono cioè diciamo le stesse persone vogliono altri soldi la poi secondo me secondo me si come dire si impuntano alla giapponese no prima che paghiamo quelli che hanno disonorato la Konami esatto prima che piuttosto spendiamo il triplo per ridoppiarlo ma ormai loro l'onore è giapponese eccetera eccetera quindi e eh eh sì qua praticamente c'è Sigone Tagliaferri che ha fatto quest'articolo nintendo altri doppiatori attaccano la compagnia per i compensi molto bassi e c'è il caso di Stotizio che era stato pagato 3000 dollari per ehm per per doppiare Breath of the Wild e spero non Link che non parla è già sto per dire io ho detto che cazzo dopo Link no no c'è scritto ha doppiato Revali Teba e il grande albero Deku che non so chi siano Deku Tree sì 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 lo conosco persino io e ha doppiato anche Revali e Teba ed è stato pagato 2-3 mila dollari e invece dice che per un gioco indie che si chiama Freedom Planet eh ha guadagnato di più perché gli hanno offerto anche le royalty e e poi ha guadagnato ancora di più doppiando Detective Pikachu dove ha prestato la voce per due sole battute fuori campo però era diciamo era stato assunto tramite sindacato e quindi gli hanno dato 950 dollari a a personaggio perché doppiava due personaggi fuori campo e quindi Detective Pikachu comunque è sempre stato prodotto da Nintendo quindi eh sì e però c'è la c'è la grande differenza del il mondo del cinema che è molto sindacalizzato in America e ti permette di avere questi accordi decisamente migliori rispetto al magico mondo dei videoguochi e quindi il succo è tutto lì sì sì no ma anche se era prodotto da Nintendo credo che comunque sia stato fatto in America Detective Pikachu o sbaglio sì sì è una produzione americana probabilmente ma cioè ragazzi ma non so se sapete la storia di degli attori del primo Resident Evil che li hanno presi tipo da mezza strada alla Pasolini li hanno portati i ragazzi di vita sì li hanno portati in mezzo a un parco di notte hanno detto dai gira gira corri tu corri vai qua vai là sì è vero che poi ci hanno messo anni a ritrovarli questi che infatti di recente l'hanno ritrovati perché non c'era non sapevano proprio che cazzo fosse questi gli attori facevano le persone hanno ritrovato la Bionda che però non si vuole far chissà come non si vuole far conoscere da noi gamer hanno ritrovato anche Rebecca che devo dire che col tempo ho imparato che era tipo una russa che al tempo stava in Giappone hanno ritrovato pure i maschi però onestamente non me ne sono fregato molto dei maschi invece Rebecca perché non erano abbastanza acculturati non erano abbastanza acculturisti scusa si che poi tra l'altro erano pure doppiati quindi hanno ritrovato sia i personaggi gli attori sia i doppiatori quindi cerca d'autore si i brothers probabilmente gli avranno offerto delle caramelle per fare Resident Evil ma proprio tra l'altro mi sa che la Bionda all'epoca era pure tipo minorenne vabbè poi in Giappone figuriamoci su youtube come cosa vorrei dire no in Giappone figuriamoci non si fanno problemi l'attrice minorenne queste cose qua matt dice su youtube trovate un video degli attori di Wesker Chris e Barry che giocano al primo Resident Evil addirittura secondo me è probabile che neanche ci sanno giocare comunque va bene e niente per continuare l'angolo femminile vabbè io onestamente Baionetta pure io ho giocato il primo un po' il secondo ho provato l'inizio tramite emulatore però né il primo né il secondo ma non mai io poi sono uno che sono abbastanza refrattario a questo tipo di a questo tipo di di action alla giapponese mi piacciono mi piacerebbe saperli giocare meglio io però purtroppo non sono capace quindi pazienza e credo di aver finito solamente Devil May Cry 4 e Devil May Cry quello di Ninja Theory il preferito di Fabio e le metagliaie le mani si lamentarono tutti all'uscita no? mamma mia a me è piaciuto alla fine anzi ti rendi conto che cazzo stai a dire non hai giocato manco un Devil May Cry mi sarebbe piaciuto se fossero andati ancora di più a fondo con quella che sembrava l'idea originale che lui doveva essere mezzo drogato mezzo no invece sono drogati loro per compensare e e vabbè e che volevo dire e quindi boh però dai sarebbe bello perché comunque in Giappone cioè tra doppiatori che vengono pagati esistono nel mondo degli anime che io vengono un po' meglio i doppiatori superstar tipo la signora che doppia Goku che è morta è morta eh sì adesso se riesce a doppiare la pagano tantissimo no ma capace che continua a doppiarlo ancora ancora morto che è morto e poi no sì perché comunque la voce di Goku in giapponese è veramente inascoltabile cioè da bambino vabbè da adulto veramente boh però a parte le superstar quelli che lavorano un po' dietro le quinte sono cioè tipo quelli che lavorano negli studi di animatore eccetera eccetera da quello che so sono abbastanza sono abbastanza in condizioni critiche per quanto riguarda pagamenti eccetera quindi non fatico a credere che pure c'è qualsiasi posizione che non sia di primo piano venga abbastanza pagata a risparmi diciamo ecco perché perché sì quindi boh speriamo che questa cosa stimoli un po' però te posso dire che da qui a boicottatelo insomma ci passa a mare eh ma sì magari ha fatto una richiesta che sicuramente in pochi ti seguirà infatti nelle risposte al post sui social c'è stato un nostro ascoltatore che ha postato tipo la gif a momolo segno cose del genere e però boh se non fai queste azioni come cioè magari fai fai un po' fai un po' di rumore però basta cioè l'unico modo in cui si potrà si potrebbe avere un'influenza su queste case produttrici sarebbe se se veramente avessero un impatto sulle vendite probabilmente non ce l'avranno e probabilmente lei verrà verrà molestata online perché si è permessa di parlare contro Baionetta però non lo so non lo so non lo intendo che forse è ancora peggio è in effetti cioè per me ci sta che lei non abbia accettato perché effettivamente è una cifra ridicola anche se mi piacerebbe sapere quanto l'hanno pagata per gli altri due essendo comunque un progetto che non è così così grande cioè non è The Last of Us non è God of War quindi lei ci sta tantissimo che non abbia accettato da lì a dire ma mi pagano troppo poco io non ho accettato quindi voi votatelo è un altro paio di maniche secondo me poi poi insomma non credo che avrà riscontro anzi forse farà anche l'effetto opposto credo ma non penso comunque che vendite Baionetta 3 sia no saranno abbastanza alte da Platinum mi sa che non sta non sta molto in buonissime acque cioè è sempre uno studio che continua a essere rinomato eccetera eccetera però l'ultima roba che hanno fatto qual è stata Babylon Fall quello che sì purtroppo per loro sì sono giocati due persone e comunque Camilla Iteki Camilla ha risposto su Twitter in inglese ha risposto triste sono triste per questa deplorabile vabbè in inglese un po' scarso devo dire comunque dice che praticamente attitudine di non verità ed è tutto quello che posso dire per adesso e comunque attenzione alle mie regole in maiuscolo quindi che cosa la cosa delle regole è perché lui è famoso per bannare tutti cioè bannare bloccare tutti quanti su Twitter se ti rispondi in inglese lui ti banna sì e vabbè e quindi insomma questo è quanto però non è lì l'unica rappresentante del Gelti del Sesso che abbiamo questa settimana perché abbiamo anche la ragazzina che interpreta Ellie che non mi ricordo come si chiama Bella Thorne Bella Ramsey si chiama Bella Thorne sai chi è? è una pornostar ti dicevo ma ho già sentito sto nome vabbè o comunque secondo me nemmeno lei l'ha giocato della Stovass quindi sì perché lei ha detto che non ha giocato della Stovass e che le hanno anche consigliato di non farlo e allora io cioè non lo so lei già diciamo che l'hanno presa più per le tue diattoriali che per la per la bella presenza e quindi già qua era in una posizione critica ma dice pure che non è fan del gioco non ci ha proprio mai giocato no perché poi di solito quando prendono qualsiasi attore subito dico ah no io il gioco sempre giocato è il mio gioco preferito invece cioè come la giudichiamo questa Massimo Massimo Massimiliano Max Massimiliano Max tu come la giudichi questa questa attricetta diciamo che che vuole vuole rovinare The Last of Us per noi gamer sinceramente se le hanno consigliato non giocarlo magari perché la storia va in direzioni diverse rispetto al gioco o perché volevano non lo so mantenere boh basse le aspettative o cose del genere sicuramente spero che andranno in direzioni un pochino diverse che non sia un ricalco uno a uno del gioco del gioco originale la serie dice doctor giustamente preoccupato del che nessuno pensa ai bambini ha detto che il gioco è 18 più e lei quanti anni ha lei ha ben 19 anni è nato il 25 settembre 19 e più lei eh sì e quindi Barely Legal eh no Barely sono 18 19 25 settembre non ti spino vabbè diciamo che lì non è bellissima fisicamente è un po' tamponata di faccia un po' tamponata è quando prendi un frontale in auto però comunque cioè in Game of Thrones c'è un personaggio che ha due tre battute però no no rimane molto presto a me lei sta super simpatica eh cioè bella cazzuta io lei non ho veramente idea di chi sia non hai visto Game of Thrones scusa ma non ci penso neanche ma fa una figura non ci penso neanche ma che avessi detto fa una figura non so di cesso avevo visto le prime due puntate mi hanno annoiato a morte e ho lasciato perdere per sempre e idem The Walking Dead quindi però ti sei finito a scorna eh sì perché sono eh madonna vabbè The Walking Dead ma The Walking Dead è ancora ancora un tiro quanto sta 24 stagioni è finito è finito 12 stagioni deve uscire l'ultima parte dell'ultima stagione mi sembra ma da tre anni deve uscire l'ultima parte ah sì come Call of Titans Matt dice però un attore dovrebbe come minimo conoscere l'origine del suo personaggio spero lo abbia almeno giocato su YouTube ma guarda Matt onestamente boh cioè voglio dire se vuoi la versione diciamo secondo me è anche noioso rivedersi rivedersi in formato diciamo telefilm una roba che hai già visto in formato cazzin di un videogioco e rivederselo uguale diciamo un po' ma poi scusate ma perché è a Pedro Pascal che c'ha il poster a casa del sbaglio probabilmente sì tu sei a casa della Svastica è probabile è un fan eh dico è un fan della Svastica non credo no no Dizio sono un fan della Svastica della Svastica della Svastica della Svastica della Svastica sì però quello rispondendo a Matt nella chat le origini del suo personaggio sono nella sceneggiatura perché deve aver per forza giocato il gioco infatti cioè quello che deve sapere lo saprà o lo scoprirà leggendo quello che le viene le viene dato in mano nel momento in cui segna firma il contratto bla 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 cioè non riesco a capire la no ma ripeto per me è proprio la roba di voler avere la riduzione uno a uno perché proprio per parlare di The Walking Dead hanno fatto quando sono arrivati i personaggi di quello con i baffi a manubrio la messicana e quello intelligente non mi ricordo neanche come si chiamavano a me non so non so voi se avevate letto il fumetto a me sembravano i cosplayer di quelli del fumetto perché veramente li avevano fatti proprio a puntino per essere uguali a come erano nel fumetto però ho preferito di più cioè personalmente preferisco di più le robe tipo preacher o anche the boys che prendono il materiale originale lo rielaborano lo diciamo che e poi probabilmente in quei casi poiché comunque erano robe più di nicchia i materiali originali sono riusciti a ma lo stesso coso Sandman credo che si discosti abbastanza non tanto eh ma non credo che sia una riduzione cioè non è come gli anime giapponesi che veramente se prendi il manga no 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 sembra lo storyboard dell'anime quello per esempio mi piace che sia così perché comunque a volte è come se i manga fossero una versione vorrei ma non posso dell'anime non so come dice essendo così cinetici ci sta che poi vuoi vederlo anche come in in animazione però anche là cioè se tipo come fecero con Ghost in the Shell se arriva Mamoru Wash dici no voglio fare il film lo faccio a cazzo mio vaffanculo va bene non è che è una tragedia il personaggio non rispetti persona tra l'altro adesso è uscito anche il remake di Damò quindi vedremo vedremo pure quello però sì cioè secondo me se lo fanno un po' diverso da come avete visto l'uomo molto se no io no qualcuno l'ha visto qua io ho visto ancora no sì sì ti è piaciuto Stefano sì avevo già detto un po' del manga e ma anche gli sapevo già cosa succedeva è sempre abbastanza cioè l'episodio non lo so è più triste del resto forse è abbastanza triste però no no bello ben disegnato ben realizzato fedele al manga Matt dice non intendo che debba essere identico al gioco semplicemente ci sta che uno conosca il materiale d'origine nel momento in cui devi interpretare quella persona sì no da questo punto di vista è vero però boh magari hanno voluto evitare che lei lo perché qua dice proprio dove sta dice che e le hanno consigliato di non giocarlo sì sì secondo quanto raccontato dall'attrice all'audizione le venne chiesto se avessi mai provato il gioco ma lei non lo si è giocato oppure l'ha visto no no Ramsey ha detto ha scelto di essere sincero e confessare che no non lo aveva mai giocato bene facciamo che resti così pare che le abbiano comunicato dall'altro capo del tavolo e quindi gli hanno detto proprio quelli che le hanno fatto l'audizione Neil Druckmann proprio gli ha detto no gioca lascia aperto sì sì ha detto facciamo che resti così proprio gli ha detto e boh sì qua dice ipotizza ah no aspetta aspetta Ramsey conferma anche di non aver del tutto ascoltato il consiglio ricevuto qualche gameplay l'ho visto giusto per rendermi conto di ambiente atmosfera e mondo originale quindi possiamo stare tranquilli l'attrice non è andata su set del tutto di giuna del lavoro di Neil Druckmann quindi possiamo tranquillizzarci possiamo stare tranquilli ragazzi sì 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 ho visto qualche gameplay quindi vaffanculo l'ha giocato su youtube ma sì ma dai non credo che che per recitare devi giocarlo in prima persona altrimenti ti perdi il gameplay o forse sì chissà ti perdi qualcosa di gameplay anche là va bene quindi tutto è bene quel che finisce bene brava bella Ramsey Ramsey e anche bella Torno anche bella Torno soprattutto e niente l'ultima l'ultima cosa dell'angolo delle femmine che mi ha consigliato Max tra l'altro che lui so che è un grande fan chiede Massimiliano sì sì Massimo ah ok e c'è stato il adesso se metto Amurant qua nella ricerca potremmo essere bannati da Twitch quindi attenzione non scrollo neanche niente Amurant ha fatto una live ultimamente sapete tutti chi è la famosa Twitch super tettona super figa che si chiama Caitlyn Siragusa quindi secondo me c'ha anche origini italo-americane che secondo me giocano una parte e niente c'è stato ha fatto questa live che ah vedi qua su multiplex hanno già Plague Tale Requiem però non avendo giocato quello precedente non sto capendo che sta vabbè una live su Twitch dove a un certo punto si è messa a parlare con il marito dice Brothers Club Live ecco che cazzo è successo si è messa a parlare col marito al telefono che tutto incazza intanto non si sapeva che lei era sposata e e pare che questa cosa gliel'abbia imposta il marito perché gli ha detto che in questo modo avrebbe avuto più appeal perché si fosse saputo che era sposata giustamente poi i fan avrebbero perso troppe speranze nei confronti e poi niente pare che tutti i soldi che fa siano tutti in mano al marito sia tutto intestato al nome del marito pare che questo marito sia abusante nei suoi confronti e nella telefonata si sentiva pare che io non l'ho sentito nesta notte ci sono dei video che girano su twitch scusate su twitter li potete recuperare anche qua dalla news di di multiplayer dove dicono che si senta che il marito le dice che se ne deve se ne deve andare dalla casa altrimenti le uccide i cani lei si mette a piangere perché dice no i miei poveri cani queste cose qua e e poi insomma ha fatto anche vedere dei messaggi che ha ricevuto dal marito dove il marito la chiama scema e tutte queste cose qua e insomma un po' però mh lei ha anche detto che ah si se volevi che io facessi finta di essere single per per avere successo vedrai che tra un po' sono single davvero ed è chiuso così papà e buono lo so Stefano tu che ne pensi di questo marito abusante di Amorant ok insomma io speravo che fosse più per i fatti suoi a me la situazione del marito lascia un po' diciamo sconsolato ecco e poi c'era anche una cosa che diceva una voce femminile che diceva se aveva preso le medicine eccetera quindi sentito così mi sembra una che viene sfruttata diciamo mentalmente come dire con dei problemi o mentalmente più debole comunque che viene sfruttata da dal marito che più che un marito mi sembra un 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 protettore sì un un slash un 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 giancio eh sì insomma è che in generale non mi sembra così ecco poi bisogna vedere sempre ecco tutta la questione in generale perché si sa solo magari il suo lato io mi auguro che magari stia esagerando lei ecco ma per lei eh non per lui c'è anche chi ha detto magari è tutto una uno stunt oddio spero di no cioè se uno stunt vanno rinchiusi da qualche parte tutti e due in un manicomio navale a Pisa credo non lo so eh scusa se a noi piace appassionarci di ste robe madonna santa cioè appassioniamoci di cose meno meno no la cosa lo dicevo prima prima di andare in onda che la cosa dello stunt scusa un secondo scusa intanto ciao AB89 che ha detto che la prima volta che scrive ha detto Amurant la nuova gemma del sud ma insomma è un po' diverso esatto Giampi dice anche parte della sua community che protestano per il fatto che lei sia sposata chiedendone indietro i soldi è allucinante mi sa che c'è tutto un bel giro dei luminari ecco dietro questa roba dice Max no scusate che il fatto che lei abbia rivelato durante lo stream perché da quello che ho capito lo stream è andato che lei stava facendo la live tranquilla le suona il telefono mette il muto alla live risponde e quando il marito incomincia a minacciare appunto ti ammazzo i cani e tutta quella bella roba lì lei ha deciso che basta e ha rimesso ha tolto il muto dallo stream mettendo il marito in viva voce i video li ho visti di tutta sta notizia e lui è letteralmente fuori di testa dice ah non hai sentito quello che ho detto perché stai dicendo che ti ammazzo i cani e lei scoppia a piangere perché evidentemente è talmente piena dell'abuso del marito che dice io sto ripetendo quello che mi hai detto tu fondamentalmente e la questione se fosse uno stunt sarebbe uno stunt molto stupido perché come vero ci abbiamo fatto la battuta però alla fine è vero il suo modello di business è sono single tutti voi potete avere una chance anche se ovviamente no e questa mossa non avrebbe assolutamente nessun senso parla per te se avevi che non so 3 milioni di dollari da fare una mini donazione magari la sua attenzione poi magari ti vedeva invitavi a cena potevi giocartela potevi giocartela potevo giocarmela potevo giocarmela e facci ritrova la busta sotto al piatto eh certo no comunque andrebbe diciamo contro il diamante dentro gli spaghetti andrebbe contro il suo modello di business se vogliamo metterla così se ti do 10 milioni di euro un miliardo di euro cos'è cioè il modello di business non ti serve più ma la stronzata perché è come la cosa che dice ma tu per un miliardo di euro ti faresti inculare se qualcuno mi dà un miliardo di euro prima parliamo ma tanto non succede quindi che cazzo ti rispondo a fare ma esistono quelli tipo della rabbia saudita che fanno le super donazioni alle twitch madonna avevo letto di una ma non lo posso raccontare perché c'è una roba terribile e questa dice ok adesso posso smettere di lavorare però mentre era tipo andata in arabia assoluta e raccontava di cose che neanche nei peggiori cose giapponesi ah facevano le robe sex dungeon eh ma forse solo quella vabbè vabbè dicevi max scusa quindi secondo te non è una stunt no secondo me non è max power da adesso in poi va bene max power va bene no secondo me non è non è uno stunt assolutamente perché non avrebbe davvero senso per come ha gestito la cosa finora basta così sì lapidario lapidario ma comunque basta che mangi la merda letteralmente dice brothers in che senso ma chi amurant o quella di bigio no ma è famosa quella che dice di coste boh non lo so dovrei ritrovare la cosa l'articolo ma sarà vero poi magari è inventato non lo so c'è il nome con gli malattizi ha smentito però adesso guarda l'altro giorno l'ho detto anche su sul gruppo vocale telegram l'altro giorno sto vedendo una live dove parlavano di Joe Rogan che ha detto che lui dice no io ho la moglie di un mio amico che fa l'insegnante nella sua scuola hanno messo le lettiere dei gatti perché una ragazza si è identificato come gatto forri e quindi deve pisciare le lettiere e poi vabbè quelli che hanno fatto il video hanno detto che questa è una una leggenda metropolitana che addirittura c'è anche su wikipedia e quindi è una bufala però cioè a me quello che ha incuriosito che mi ha colpito è che questo dice no io ho un amico che ha l'amica insegnante cioè questo c'è il primo podcast al mondo chissà quanti cazzo di miliardi fa e poi frequenta non lo so l'insegnante della scuola media mi sembra un po' cioè tu stessi se ci avessi il primo podcast al mondo come diventerà tra poco free plank tra l'altro continueresti a frequenze secondo me sono tutti inventati questi amici e queste amiche guarda io c'ho c'ho un amico che c'eva la moglie però si sono lasciati perché in arabo gli ha offerto 10 miliardi però è andato in arabia saudita e non si trova avrà degli amici che non sono tutti ricchi famosi eccetera come penso tutte le persone si chiama Sara Sprenglusson quindi vi ho dato anche il nome e cognome e quindi Mirkot dice fonte i canali telegram di Geminash sì probabilmente infornash sai quelli belli con tutte le cose salutiamo Andrea è top salutiamo anche i canali di telegram da cui prende le informazioni sono fantastici dopo c'era la figlia segreta di Diana e Carlo che si chiamavano un amico che c'ha la moglie che era amica di una che lavorava per Lady Diana che mi ha detto che non è vero che stava con me che si chiamava quello Sabino dice che l'hanno uccisa perché non volevano che sposasse un musulmano questo era il motivo della visione sì sì me l'ha detto la amica del fratello era scritto in un tabloid inglese da cui questi hanno preso la notizia e l'hanno riportata a pari pari qualità del tabloid inglese che si sa che sono piuttosto affidabili gradino sotto quelli di Men in Black che neonato incinta capito quelle cose lì quelle cose non so se vi ricordate del primo Men in Black che dice sono le informazioni migliori che sono l'equivalente di quello e dice ecco la ricostruzione poi c'erano le foto e poi in piccolo scritto ricostruzione fatta al computer cioè di come potrebbe essere adesso chiaramente insomma ma chi Amurant no no Olivia la figlia segreta di Carlo e di Diana che sarebbe l'erede al trono ma non vogliono perché sennò William non diventerebbe re eccetera eccetera e quindi poi re Carlo terzo e sotto una scritto in italiano re Carlo non è ancora re lo devono ancora incoronare è quello il problema dell'articolo ma l'hanno incoronato o non l'hanno incoronato sono un po' 19 però l'articolo era che hanno scritto che era già re no dopo domani oggi 17 oggi 17 oggi lunedì 17 dice brothers no parlo dei miliardari degli emirati che donavano valanghe di soldi agli influencer il fatto di mangiare la merda onestamente non lo so voi quanto quanto sarebbe il minimo quanta merda ho mangiato io mi tengo verso le sette e mezza otto un assaggino se uno mi dicesse Bruno ti diamo un miliardo di euro però devi mangiare la lettiera del gatto tanto prenoterì all'ospedale però dai con un miliardo di euro appunto quanta lettiera devo mangiare prenoto l'ospedale vabbè una lettiera piccola per un miliardo anche quella grande esatto devi dire quale lettiera così lo so per altri nessun problema proprio il modello devo trovare su amazon non lo so un chilo e mezzo di cristalli un chilo di merda di gatto un chilo di merda no vabbè un chilo di merda però per un miliardo di euro per un milione per un milione va quanto ci mettete a mangiare a merda ma 20 euro sono sempre 20 euro quindi perché sai per un miliardo ti togli proprio il pensiero cioè ti fai come se mori dopo no intanto ti cominci a preparare l'elicottero il jet privato che ti porta magari nel miglior centro del mondo ti fanno una vanda gastrica proprio quella ti purificano da cima a fondo e poi insomma li paghi e vabbè però sì dai va bene momento coprofagia l'abbiamo gestito c'è anche quelli a cui piace quindi poi onestamente cioè con 20 gatti e pasta che ho qua ormai c'è abbastanza dimestichezza con con l'argomento quindi potrei potrei anche essere diciamo più come si dice immunizzato matt dice con un miliardo di euro smetti di lavorare per tutta la vita io accetterei molto meno anche con un milione di euro lavorare tutta la vita se te li gestisci in un milione di euro ci si paga i debiti e tutto il resto è in cripto così bam subito sulla luna andiamo sì sì subito bitcoin a manetta sì 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 subito anzi dogecoin per elon musk un investimento sicuro esatto pizza però poi se diventi miliardato ti cominci a frequentare elon musk jeff ben non penso di digerire le pringles quando ero giovane minchia mangiavo le pringles non riesco a digerirle la merda di gatto probabilmente sì quindi se ti pagano un miliardo per la merda di gatto sì però per le pringles no un tubetto di pringles per mangiarmi un tubetto di pringles faccio no no quello no che scherzo magari lo devi sbriciolare prima devi fare la merda eh guarda se non è che ha problema lo devi immaginare ma lo devi tirare su col naso sì sì ecco dice jumpy se la telefonata è vera e personalmente penso che lo sia non oso immaginare la reazione di questo tipo una volta che avrà rivisto il video e letto la notizia i cani si saranno suicidati per sicurezza sì che tra l'altro poi in tutta sta storia o non che ti dici ti ammazzi i cani cioè al di là di tutto quanto c'è uno che dice ammazzo i cani veramente io non so che cosa prendere ma ci sono aggiornamenti su questa storia infatti mi è venuta la curiosità adesso andiamo a vedere subito oggi non mi sembra di aver visto nulla sì tre ore fa da fanpage lo sfogo di Amurant la star di OnlyFans vedi nel mondo di fanpage nel mondo dei normis non è manco la star di Twitter la star di OnlyFans mio marito mi obbliga a fare i video minaccia di uccidere i miei animali Amurant è vittima di un marito un animulatore Amurant sta bene i membri del suo team sono riusciti a mettere in contatto con lei beh penso anche loro Alinity non è riuscita a riuscita la star di saluto di Amurant con la polizia penso questa sarà una roba tipo di di visibilità riflessa cioè ciao ragazzi sono Alinity e vi dico che non sono riusciti a contattare Amurant quindi anche noi possiamo scrivere che ne so a Kotaku diciamo ciao siamo quelli di Freeplank Freeplank non riesce a contattare Amurant punto esatto così il bigio digerisce con le Pringles infatti storia di no dai seriamente speriamo che però è il marito che la obbliga a fare streaming obbligato a fare le hot tub dal marito violento si dice che la cosa delle hot tub era è stata un'idea del marito più che più che sua cioè quando ha incominciato e forse anche only fans perché da quello ripeto immagino che se deve essere costretto per fare hot tub l'avrà costretta pure per fare only fans eh penso di si sarà una roba tipo Sara Tommasi che era più di là che di qua ma no no lei l'ho vista anche ospite di H3H3 podcast vabbè magari non conosceva comunque altri podcast cioè Sara Tommasi sta veramente sta veramente alterata oltre ogni limite eh appunto dico no ma in generale lei ha visto l'antenne di vista dopo diciamo che aveva comunque problemi mentali vabbè magari doveva prendere le medicine tipo che eh vabbè Cristo ma cioè vedi che è stato eh dici boh vabbò nessun problema magari doveva l'antiacido per lo stomaco eh sì capisco va bene quindi niente probabilmente vi faremo sapere aggiornamenti di questa notizia che riguarda i videogiochi appunto come riguarda Stefano anzi come riguarda Biggio Stefano i Karei Shinji i Karei Shinji Kun sì sì va bene l'angolo dei rumor ma in realtà non ho scritto la vera news che mercoledì Konami farà un evento relativo a Silent Hill attenzione eh sì eh sì in chat si erano scaricati si erano scatenati Silent Hill in Genshin Impact quelle cose là NFT Silent Hill vediamo un po' se li trovo la news Silent Hill Konami spererà il futuro della serie in una diretta ecco date e orario che sarà ecco l'edì alle 23 tu dovevi in che podcast sarai per quell'ora ste mercoledì 23 beceri ok quindi Stefano farà il commento in diretta sui beceri esatto fermi tutti fermi tutti dove andate i beceri che tra l'altro hanno fatto 10 anni no quanto hanno fatto ultimamente 4 anni mi pare 4 puntate 10 anni e free playing retrocast tipo 12 auguri a retrocast anche 12 apri 12 come rivesteggi 12 apri retrocast boh sopravvivendo cercando di fare l'episodio 50 non fai la festa si grande adesso no no cerco di fare l'episodio 50 che sarà una festa ah ok una festa c'è la festa nel mio podcast e sono tutti in vita e si chiamerà la festa a festa festa a festa e quindi dice brothers club live cancellerà silent id dalle sue ip ma ormai quanti anni sono che ha rinnovato il trademark ha rinnovato l'episodio tanto oppi e vedi qua c'è stefano paglia su che è un tuo parente ste certo ti congioro tra l'altro vedo che c'è un extra dell'angolo delle femmine cyberpunk 2077 phantom liberty sasha gris era la voce di ash reparto veramente siamo contenti che esce questa espansione di molto io devo ancora finire l'originale l'ho finito ma il mio interesse nel riprenderlo è attualmente zero nonostante cosa che c'è sasha gray l'espansione ti farà espandere anche qualcos'altro stefano che parla e basta mi ha affermato che sono in cantiere più giochi della serie a fine settembre la writing board quareana classificata in misterioso silent hill short message che stando al noto insider dusk golem si tratta di una democra tweet che farà da teaser al prossimo capitolo principale della serie e inoltre dusk golem ha detto che è in lavorazione un remake di silent hill 2 quindi sappiate che il tweet questo qua che hanno annunciato sta cosa inizia con l'incipit della lettera di Mary di silent hill 2 quindi che dice quella bestia non è mio papà giusto no che dice my restless dreams erano abbattute stavo scherzando hai capito stavano nei tuoi sogni senza senza resto c'è niente da scherzare sui gemelli diversi appunto ma voi avevate a che età avete capito che gemelli diversi era sia di staccato versi che diversi 35 quanti anni hai adesso mi sa che l'avevi scritto tu stai in qualche chat eh sì sì non l'avevo scritto io però adesso mi è ritornato in mente ogni volta che ci penso mi lascia e cazzo e visto che roba e quindi niente mi sconvolgo ogni volta voi lo sapevate già da sì sì Max sì Massimiliano sì Fabio ti ho detto 35 no Fabio tu hai 20 Matteo no no lo scopri adesso ehm sì da adesso la tua vita cambia esatto e da adesso come come porterai avanti la tua vita alla luce di questa rivelazione intanto devo vedere sereno se stanno riesco a dormire perché eh lo so ti sento sconvolto devo essere sincero però stai calmo ti prego stai calmo va bene possiamo proseguire Brothers Club Live scrive 31 ovvero stasera che non so che cosa che cosa voglio e lui aveva 31 anni quando ha scoperto questa cosa che ha detto Stefano quindi stasera Nez dice io non so neanche il mondo mi è appena crollato a tosto eh cari miei voi voi continuate ditele ai vostri amici dovete sentire su free playing il podcast delle rivelazioni eh sì tipo i segreti di free playing sì sì l'angolo dei segreti di free playing rubrica fissa mago bigio che risponderà secondo solo al mago sabottino al mago gabriel anche i numeri per vincere la lotta far agnotta faccio il pinotismo anche anche io il pinotismo il pinotismo del mago gabriel sì sì e vabbè siete con te a me è onestamente il remake di salentino 2 boh fabio volante chiede quando me ne vado quando vuoi fabio tu basta che lo dici e io me ne vado io non sto aspettando altro ragazzi io sono costretto a questa vita di podcast in seguito alla maledizione di un di un no ma scherza fabio ho conosciato fabio solo allora vi seguirò ah in qual senso io non volo purtroppo mi piacerebbe molto ma non è quel fatto io sono fabio seduto sedutante oh mamma mia sì va bene allora ascolta io me ne vado voi guadagnate un ascoltatore facciamo facciamo così no stai rimane per piacere vabbè allora bruno non vuole fabio io ci ho provato mi spiace senti che stavo dicendo eh sto remake di sto remake di lo aspettate pure voi guardiamo che fanno comunque è una pratica che stanno sfruttando in tanti questa cosa dei fire remake del capitolo più amato per vedere se c'è effettivamente eh ancora eh sì perché se vedi pure death space ha fatto la stessa cosa eh a suo modo anche resident evil ha remitizzato il 2 per vedere se la formula in terza persona piaceva ancora quindi è probabile che se devono veramente fare remake sarebbe quello inizio sì ma c'è boh non cioè come lo fa ma secondo voi fanno un remake come resident evil 2 eh visto da dietro eh no è uguale ma con James che spara le cose no basterebbe modernizzare un po' delle delle meccaniche che chiaramente quanti anni c'ha silent evil 2 20 anni 20 anni e chiaramente in 20 anni si è diventato più si è invecchiato e non benissimo e fai una bella grafica insomma le possibilità ci sono dai non è un gioco che non puoi fare remake anche perché abbiamo visto remake dei giochi che sono usciti tre anni fa recentemente quindi vediamo un po' tu dici che si metteranno contro il remake di The Last of Us beh no sono proprio due giochi differenti però sarebbe ecco se facessero una roba tipo che dopo domani dicono oh ragazzi silent evil 2 scaricabile dappertutto boh ciao no 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 figurati sono giapponesi faranno una diretta di 25 minuti dove per 20 minuti dicono quanto era bello silent evil e quanto ci teniamo ai fan per poi svelare una macchina da pacificare però magari il teaser demo teaser di un gioco nuovo si ci starebbe eh anche come fece cosa compiti come fece eccoci ma io spero che non sia un progetto tipo i sui golden cioè rifà quelli con qualche asset cambiato rimasterizzati perché sarebbe veramente una presa per il poi vediamo è un po' la cosa che ci aspettiamo tutti da conami possiamo eh appunto appunto matt dice avrei preferito un remake dell'uno sinceramente ma sicuramente l'uno ci sarebbe più da remake perché comunque della prima playstation c'era quella grafica la molto però boh non lo so cioè fatene uno nuovo cambiate sti cazzi di remake è un po' rotto i coglioni nettamente ma poi cioè almeno dice oh faccio il remake di un gioco arcade di un gioco che che ti fai le partite veloci o comunque già il fatto di doverti rigiocare tutta la storia di dover stare là 8 ore 10 20 ore di una cosa che sei già sì poi magari cambiano qualcosa però non dipende di Bruno come lo fanno se fanno un remake alla The Last of Us ma anche no un remake alla Resident Evil 2 ci può stare doctor dice Shattered Memories era già una sorta di remake ah beh Shattered Memories era più uno spin off una rimmaginazione del primo era Shattered Memories c'è un cazzo a che fare con tutto il resto della serie alla fine sì ma la storia alla fine si basa sul primo con le Shattered Memories non lo sapevi visto attentamente su youtube sì dai di skateboard di Silent Hill un paio di anni fa sì Brothers Club Live ci dice io vi ricordo dell'annuncio di skateboard di Silent Hill di un paio di anni fa quindi io dico fanno la bicicletta cambio Shimano ne pentono ma da tanto ci sono questi rumor delle remake di Silent Hill è di un nuovo gioco quindi penso qualcosa prima un po' spunterà fuori mi sguardo se questa è la volta buona non lo so non lo so non mi entusiasma sta cosa poi vabbè c'ha ragione Fabio che ormai non mi entusiasma più un cazzo però bravo però vabbè va bene vediamo cos'altro c'è qua a proposito di rumor l'angolo delle tru no che angolo delle tru ah poi Konami ha annunciato anche ufficialmente i piani per fare i suoi nft quindi magari il grande annuncio non deve essere i silent coin io me li compro subito tra l'altro perché sicuramente noi gamer faremo che poi tra l'altro a proposito di youtuber un sacco di youtuber ultimamente da quello che ho sentito si stanno buttando nel fare cioè ultimamente fino a poco tempo fa anche per esempio Jake Paul si era creato la sua criptovaluta che poi là lo schema è che ti fai la criptovaluta dicevo ragazzi prendetela tutti che sali di valore dai 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 poi appena sale un po' tu che sei il fondatore che ce n'è un casino vendi tutto il prezzo crolla però tu intanto ti sei fatto il super guadagno e quindi ragazzi preparate a free playing coin che tra un po' verrà anche montemagno che fosse fatto il no montemagno aveva fatto gli nft credo che sia fatto anche la cripto il monte coin e montemagno è un altro che ha tutti gli amici che hanno detto c'era un mio amico che mi ha detto che c'ha la moglie che faceva il bitcoin ha inventato il bitcoin già pensare che montemagno c'abbè degli amici c'ha fantascienza beh si quello ci conferma fabio solo nft va bene vogliamo dire qualcosa sul keynote di meta qualcuno l'ha visto Matteo l'ha visto il keynote di meta si ho visto Massimo Massimiliano l'ha visto Max no visto no l'abbiamo ah no è vero non l'hai visto tra l'altro Zuckerberg l'ho visto anche un po' più meno rettiliano in sto video più umano hanno fatto l'aggiornamento all'esoskeletra si 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 in questo video che ho trovato c'è stato un momento che hanno fatto vedere sti cazzo di avatar che veramente sembrano quelli dell'xbox 360 e c'è un momento in cui passa dall'avatar a Zuckerberg e sti avatar sono così brutti che perfino Zuckerberg dal vivo è meglio degli avatar quindi mazza però poi hanno fatto vedere anche gli avatar quelli super realistici che però sono ancora sperimentali non so se li avete visti che c'hanno troppi pochi soldi per investire in avatar in una grafica migliore comunque no ma più che altro è impressionante quanti soldi ci stanno bruciando a questo progetto ci hanno bruciato dentro già quanto 20 miliardi 50 miliardi ma anche di più mi sono e di questi 19 è tutto per Mark tutto grazie a Mark alla fine no? sì solo che boh non riescono a a a far interagire con il metaverso nemmeno i loro dipendenti quindi ma esiste sto metaverso c'è un sito una applicazione una cosa che uno può andare in metaverso sì esiste ma non c'è ancora in Italia per il momento è America e Canada e dovrebbe aprire se non ho capito male entro la fine del mese anche in Inghilterra quindi ancora ma cosa avrebbe di speciale questa specie di meta coso è second life è second life è second life è inutile che possono menarla quanto vogliono ma è second life second life per inviare una cosa eh praticamente sì comunque Mircotto mi ha mandato il sito metaverso.com che è diventato www 38 punto metaverso.com non sicuro quindi ragazzi se vi arrivano mail dalla mia email che dicono hai vinto la lotteria cosa non apritele abbo dice da delle fortissime google plus vibes con i dipendenti che manco lo vogliono usare brothers dice ho letto che l'animazione delle gambe degli avatar era fatta in post produzione boh sì che dice durante la conferenza che avevano introdotto perché ora ci sono gli avatar ma senza gambe perché non le possono animare e invece dice con la nuova versione fanno gli avatar con le gambe però quanto pare è una cazzata che non è vero più che altro hanno annunciato come si chiama il quest pro che c'ha il tracciamento degli occhi e della faccia una cosa del genere e c'ha la non la realtà aumentata la mixed reality sì da quello che ho visto e costa un botto di soldi è tutto trasparente quindi tu vedi sia le lenti gli schermi sia vedi intorno chissà che effetto che deve fare la mixed reality sarebbe che quando c'è un visore con degli schermi e fuori c'ha le telecamere che ti ti impattina e ti passano quello che vedi fuori sullo schermo dentro e poi ci aggiungono la grafica sarebbe una via di mezzo fra la realtà virtuale e la realtà aumentata ma è interessante magari la realtà aumentata sarebbe quella specie di occhiali tipo come faceva Google e poi ci mettevi sopra l'interfaccia tra l'interfaccia uno schermo trasparente però ancora lì per arrivare gli occhialini con la realtà aumentata mi sa che ci vorrà anni quindi ora ci sono aumentate questa cosa della realtà mixed aumentata aumentata ma non troppo sì una cosa del genere boh non lo so guarda quando ho detto che ti poterà attire tanto un paio d'ore il Quest Pro di batteria e vabbè quanto ci vuoi stare e la gente ci dovrebbe lavorare con questa roba vabbè magari lo attacchi alla presa USB vabbè cioè siamo stati fino a quando è a fare a stare con con tutti i cavi però gli avatar quelli super scansionati in 3D sono figli non so se li avete visti sì sì ma quelli super scansionati mi sa che deve aver apprecchiato la speciale per farli no hanno fatto dire che c'è anche stanno lavorando anche per farti fare la stessa cosa però col telefono una versione semplificata quella eh sì questa che si vede qua adesso per esempio è stata fatta non lo so ma più che altro non si sa cosa cazzo vogliono fare secondo me tanta gente spera che Mark bruci tutti i soldi che c'è che ha fatto con Facebook in questa in questa avventura dovranno raccogliere dati per costruire una faccia unione per Mark no ma lui alla fine guarda in quest'ultimo peso la cosa più stupefacente è stata lui che sembrava più l'hanno migliorato in post-produzione che dici comunque c'ha un collo taurino anche a lui credibile sembra quasi mister note allora aspetta lo metto nella chat qua di Twitch questo qua è il sito ufficiale del metaverso di 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 Facebook che è Horizon Words che è una roba terribile dove ci sono tutti questi busti che vanno in giro perché non hanno le gambe perché le gambe sono complicate da fare potevano fare la sedia sarebbe il mio sogno c'è il busto del duce che si muove no no sai che devono fare la sedia come il barone Arcon che dove è girato ah sì 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 esatto quel corpus che c'è da tutte le parti che quello è solo nel film di Lynch specifichiamo nel film nel libro non è così mamma mia mamma mia è tremendo cioè la cosa la cosa la cosa pazzesca è che una sorta di metaverso c'è già si chiama chat VR che è molto più carino molto più personalizzato senza Facebook dietro senza meta dietro e e che funziona molto molto meglio ha gli stessi problemi di qualunque sito però insomma ce l'hai i visori guarda tu Max ce l'hai l'Oculus qualcosa no non ce l'ho ancora voglio voglio prendermi il Quest 2 diciamo prima di Natale ecco spero prima che aumenti ancora di prezzo prima che aumenti ancora di prezzo tu ma te ce l'hai sì l'ho detto l'hai provato l'hai provato no ho giocato soltanto a videogiochi questa roba social mi fa schifo ma tanto non si può avere in Italia è vero magari in PN ah forse quando devi vedere Netflix straniero magari ti puoi anche collegare con come si chiama Fabio tu non c'hai pure tu sì sì però non l'ho provato niente ragazzi io purtroppo non ce l'ho quindi non posso entrare ancora nel mondo di ma voi ve lo ricordate PlayStation Home almeno là gli Avatar erano erano un po' più fatti più carbati tutte quelle cose là è grandissimo successo anche quello sì infatti ma credo che ormai cioè i veri metaversi siano tipo GTA Online Roblox Fortnite Fortnite è vero beh sì perché comunque la gente entra in partita magari solamente per chiacchierare per fare probabilmente il problema di queste robe tipo Facebook è che non c'è uno scopo cioè tu entri dentro un po' come la festa delle medie che stanno tutti seduti agli angoli nessuno interagisce cioè Facebook all'inizio era figo perché ritrovavi magari quelle del liceo come si era fatto questo come si era fatta quella magari poi facevi le conoscenze le cose adesso invece per seguire i concerti dice Fabio Volante sì su Fortnite idea carina sì l'ho usato due volte in effetti concerto in VR dai può essere anche non su Fortnite magari cioè proprio un concerto dove c'è una cosa fatta bene con la cagata che andresti a vedere in concerto VR metallica magari viene a piovere proprio nella cosa virtuale ovviamente nelle cose dove dobbiamo staccare tutto ma è pioggia affitto dobbiamo staccare tutto no penso boh magari concerti che sono non lo so che gruppi che magari suonano solo dall'altra parte del mondo e quindi non li vedo oppure cose così ecco che magari non puoi andarci di persona te li vedi con la VR potrebbe avere un'applicazione anche per i disabili ad esempio ma nessuno ha fatto tipo che ne so perché poi c'è tipo i i film mini video porno che che girano credo che da quello che ho capito sono girati tipo con delle telecamere che riprendono a 360 gradi così poi quando ti giri nel video puoi vedere no tutti nessuno ha fatto ancora tipo che ne so i porn in VR no i porn in VR l'hanno fatto lo so però per esempio che ne so le partite di calcio di sport o comunque riprese magari con quelle delle camere in modo che tu le puoi vedere col visore puoi girarti dove vuoi tu per vedere tutto il campo non credo anche perché la vedo anche i concerti i concerti sì i concerti sì in VR ah ok questo non lo sapevo sono video reali però credo anche eventi sportivi per esempio mi ricordo all'uscita di Kingdom Hearts 3 fecero uscire degli estratti dal concerto della cantante Icaro Utada quella che ha fatto pure l'ultima di Evangelion in VR e Fabio è sempre informato c'è un'ottima novità in meta quest va bene e invece questo Oculus Quest Pro dicevi Matteo che costa un pochino quanto costa? 1800 euro beh dai si può fare investimento comunque ma c'è dentro un computer o devi avere comunque il computer è stand alone è stand alone è come il Quest è duro ma ci puoi attaccare tipo anche mouse e tastiera e installarci Windows che c'è un sistema operativo proprietario mi sa che è basato su Android come questo tipo a me ecco stavo pensando adesso la roba di concerti ho rosicato perché mi sono perso un paio di concerti causa ansia e magari invece con con il VR magari li avrei visti ecco qualcosa di simile dici? non lo so oddio il problema è che il VR allo stato attuale mi crea un'altra ansia micidiale quindi non lo so è un altro problema con l'Oculus Quest Pro ti puoi fare da quello che ho capito te la puoi mettere senza diciamo le coperture dall'esterno quindi tu vedi quello vedi l'immagine però contemporaneamente vedi pure l'esterno perché la mascherina è trasparente ah beh ecco vedi quello forse mi permetterebbe di sbarrellare di me non lo so io ho provato quello di Lisi cioè l'ho messo in testa mi sono guardato e ho fatto togli il momento esatto in cui lo dice il buon Mark Zach vabbè ma 1800 per sta roba qui comunque ecco cioè non dovendoci lavorare non avrei davvero un ultimo che devi fare di mangiare dei Pringles eh sì esatto secondo i Pringles mi ci escono con quello per stare male bene tutto l'anno ti vedi ti vedi come si chiama ecco vedi fa vedere qua che è tutto trasparente e poi però diventa non è qua vabbè comunque diceva non è trasparente no 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 vedi qua vedi c'è quelle due cose laterali che ti bloccano la visuale tu le puoi staccare così puoi vedere comunque l'ambiente esterno ah sì puoi togliere un po' da sotto togli paraocchi in pratica sì esatto non è trasparente scusate ragazzi è meno immersivo è errata courage di free playing però c'hai i paraocchi come dice giustamente Matteo te li puoi togliere così puoi vedere che ne so se ti viene un ninja di dato che ti vuole ammazzare più che altro mi sa che vogliono fare un'estensione di quello che avevano già fatto col Quest 2 che il Quest 2 c'ha le telecamere in bianco e nero e tipo se io sorpasso il limite dell'area di gioco mi fa vedere se io oltrepasso il limite dell'area di gioco che ho segnato io mi fa vedere quello attraverso le telecamere così non vado a sbattere in giro il pass through quindi qua hanno messo invece di mettere le telecamere in bianco e nero hanno messo a risoluzione più alta e anche a colore e quindi possono fare meglio questa cosa della realtà mixed mixed reality vabbè comunque costa troppo quindi si fotto ma penso più che altro sia una specie di come si dice step intermedio per arrivare all'obiettivo professionale che sarebbe la realtà aumentata ma infatti ecco se uscissero delle belle robe con realtà aumentata io non sarei molto lieto e forse le avrei già prese invece questa roba infatti mi sa che anche Apple sta lavorando qualcosa di simile c'è niente in realtà aumentata sono le cose per i cellulari c'è Pokémon Go porca puttana io volevo avere tutte le informazioni in stile lo so Cyberpunk con tutte le cose attento arriva una macchina schivala eccetera eccetera no sai non sei il Dragon Ball che dice la potenza esatto lo Scouter la prima applicazione che fanno sicuro guarda sicuro che a random danno valori di Scouter eccetera sarebbe anche la prima che installo per fissare la gente indicando guardalo quanto è forte quello adesso combattiamo sei debolissimo no li fissi tipo gli ultracorpi che e si vivono no gli ultracorpi ah proprio gli ultracorpi ok era quello no anche si vivono e si vivono quello con gli occhiali da sola che ti facevano vedere che in realtà però gli ultracorpi sono quelli che puntavano il dito è vero ah si 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 madonna cosa mi ha ricordato che ansia si 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 in teoria sarebbero fighi ma comunque ci sta ancora tante cose da fare per arrivare quella roba lì Mark ha detto preorder today scimpa il 25 ottobre a partire il 25 ottobre il giorno del mio compleanno esatto il mio servizio il giorno del mio compleanno scimpa a partire da 1493,99 dollari si ma ricordati in America in America 1799,99 euro poi in America ogni perché questo è senza le tasse ogni stato ha la sua tassazione è so profondo ecco si il ricordato il mio ultracorpi era quello degli anni 50 mi pare terrore dello spazio profondo era quello degli anni 70 terrore della terrore della colonna profonda terrore dello spazio profondo esatto e dice brothers dice mi pare in Premier League o Champions delle partite dalla prima fila esattamente dietro al portiere tipo e sarebbe figo comunque starai tutto il tempo a vedere il culo del portiere però comunque figo a suo servizio va bene ragazzi quindi aspettiamo che io onestamente sta realtà virtuale ancora non boh ma del resto io anche il 3D quando arrivarono le console 3D che cazzo tenuti di fare invece mi hanno smentito quindi magari pure la realtà 3D no ma perché poi pensavo che il 3D fosse tutta tutto soggettiva tutto così invece poi quando ho visto Tekken che era validato ho detto ah cazzo bellissimo il 3D e quindi magari anche con l'Oculus Quest si vedranno le robe di lato e quindi ah che poi hanno fatto vedere perché adesso con l'Oculus Quest possiamo abbiamo questi controller che sono dei computer a sé stanti e possono possono farvi giocare i videogiochi che non avete mai fatto come ne avete mai giocato ne avete fatto vedere un videogioco ecco questo è il videogioco che pongono l'Oculus Quest 1800 euro per giocare sta roba muovendo il pollice no quello mi sa che è una uno tech demo non è porca puttana fai vedere una cosa più carina che è sta roba manco tempo run di vent'anni fa era così porca puttana e costano le cose ci hanno già speso 50 miliardi 50 miliardi ci hanno speso ma è ne so vabbè dai comunque forza tanto questa roba se a noi non gli interessa alla fine se uno vuole giocare si prende un questo 2 aspetta il Quest 3 che hanno già detto che prima o poi esce va bene va bene dai io basteria gli extra credit che si è fatto allora degli extra credit e vediamo un po' che c'è Fabio tu che non hai segnato di enti scaletta cosa c'è gli ex credit ecco iniziamo da qua allora io ho visto la curiosità una sorpresa ho visto le prime due puntate di The Watcher che è la nuova serie di Brian Ryan Marfino Brian ma è quello di The Last House no come si chiamava no è quello di Damer che sta spara fuori le serie tv una dopo l'altra minchia il Laos era l'altra serie horror sì quello è Flanagan è un particolare quello di Oliver sorry do you speak English quello lì quello di Laos si chiama Mike Flanagan quello di Milaos 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 bel paese questo è Ryan Murphy che è quello di quasi tutti gli American Horror no di tutti tutti gli American Horror Story ecco di Damer e di questo è una serie sì horror chiamiamola così tratta da una storia vera non so fino a che punto perché non l'ho letta è la storia di questi qua che trovano una casa perfetta per loro se indebitano per comprarla loro sono abbastanza ricchi però un po' autobiografico per te no fuck esatto sì sì per la mia storia del mercoledì quando andrò a vedere casa e vabbè si mezzi indebitano per comprare questa casa e si trasferiscono qui e però scoprono da vedere i vicini quanto meno strani quanto meno particolari che cominciano a diciamo così un po' a guardarli un po' anche a essere sgradevoli per esempio c'è uno dei vicini che gli si infila dentro casa loro non sanno come c'è una coppia di anziani vicini che continua a entrare nel giardino di casa per raccogliere tipo la cicoria che gli acrigli l'hanno piantata nel giardino loro però ha sfociato in quello di quest'altri e quindi continuano a entrare dentro il giardino insomma tutta una serie dei personaggi particolari e poi gli arriva effettivamente una lettera via costa firmata da The Watcher quindi l'osservatore che gli scrive tutte robe strane tipo avete il rosso sott'occhio avete portato del sangue giovane finalmente gemelli diversi gemelli diversi tra l'altro Stefano dice panca di i vicini di Biggio ci sono e autobiografiche anche per te stasera ma non erano i miei vicini quelli che ah no aspetta quali intendi perché avevo dei vicini rumorosi abbronzati ma quelli non sono più intendi quelli ma quelli invece che ho trovato un po' di volte qua uno non è il mio giardino è la cosa diciamo condominiale due non sono i miei vicini era gente sconosciuta fossero stati i miei vicini saremmo già grandi amici ci mancherebbe cioè vabbè loro invece non diventano grandi amici dei vicini anzi si fanno odia sempre di più non si segano e gli arrivano sempre più lettere da parte del sosservatore sempre più assurde e poi c'è un escalation che vi porta delle situazioni che porterà tutto questo in due puntate si che porterà soprattutto il marito di questa coppia impazzito talmente per installare in casa dei supersistemi d'allarme cominciare a ad ascoltare dei vecchi proprietari di casa che si inventano storie assurde insomma diventa una sorta di racconto di racconti perché poi non sai effettivamente cosa è vero cosa è inventato cosa è stato edulcorato cosa è stato invece peggiorato poi lui prende un investigatore privato insomma vengono fuori tutte storie assurde su sta casa che lo portano a Guaraná un investigatore privato chi è? io me lo immagino tipo magnumpiai no 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 una donna dei colori quindi proprio no però sarebbe bello se arrivasse magnumpiai con la verrà e quindi niente i primi due episodi mi piacciono molto mi piacciono molto quanto sono in otto? sette mi sembra sette e sono curioso di vedere cosa succederà perché come hai detto tu c'è già un sacco di carne al fuoco in solo due puntate e niente vediamo questo screenshot sto notando ora che c'è l'ombra di una persona dietro una finestra che è già inquietante The Watcher e quello è certo c'è Naomi Watts sempre molto bella e invece il marito lo fa quello che fa tutti gli italiani quello di Boardwalk Empire sì fa tutti gli italiani di tutte le serie tv del mondo anche perché ha la faccia da tv scemi no no lui è più italo-americano è più italo però molto carino Netflix mi sta sorprendendo perché ho visto due serie tv e mi sono piaciute tutte e due quindi l'altra qual è? è Dahmer è molto bello va bene quindi The Watcher ragazzi vedetevelo mi sa che me lo comincerò a vedere anch'io perché mi sta ispirando molto e c'è qualcos'altro Fabio? no no ok chi passi a palla ritroviamo questa grande tradizione di replaying passa la palla a mio compare Max dai ok ok allora visto che hai citato Dahmer io vi consiglio sempre su Netflix se avete visto la serie tv c'è diciamo l'approfondimento che è conversazioni con un killer dedicato a Jeffrey Dahmer dove vanno a recuperare in questo caso i nastri che l'avvocatessa della difesa di Dahmer prima del prima del o ce la posso fare grazie prima del processo aveva fatto queste questi incontri con con il mostro di Milwaukee e aveva registrato chiaramente tutto quanto quindi ci sono c'è la disamina del del caso con anche il suo punto di vista che è una cosa un pochino diversa dal dal solito ecco tante cose che ci sono nella serie vengono dette qua ad esempio la cosa del lui che si nasconde dietro un cespuglio a 17 anni con la mazza da baseball per cercare di stordire quantomeno il 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 jogger quello che vedeva passare sempre con il 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 lì nel in questo questo documentario lo dice lo dice chiaramente lui sono tre puntate da un'oretta circa l'una sono uscite tre serie di conversazione con un killer questa qua è la metto in mezzo quella che mi è piaciuta di meno sono quelle di john wayne gacy quella però un po' noiosa cioè un po' troppi i dettagli inutili troppo troppo esatto quella non mi è piaciuta tantissimo mentre si vede anche in damer sembrava veramente cioè perché alla fine damer da quello che si vede nella serie da quello che dice lui sembrava tipo no non voglio far soffrire le mie vittime poi magari no però invece gacy sembra almeno per quel dieci minuti che si vede sembrava veramente super satico che le voleva torturare assolutamente sì gacy era terribile e faceva delle robe fuori di testa perché era davvero un sadico sotto tutti i punti di sotto tutti i punti di vista la storia di gacy è abbastanza inquietante quella che però come conversazione con un killer che mi piaciuta di più è quella di Ted Bundy perché damer è brutto da dire però lui si è pentito subito cioè nel momento in cui faceva le cose per quanto fosse una compulsione e non riuscisse a fermarsi sapeva che stava facendo qualcosa di sbagliato gacy se ne fotteva Bundy invece ha sempre negato tutto quasi fino alla alla sua esecuzione già vedere la prima puntata di quello dove per metà puntata i giornalisti cercano di fargli dire qualcosa e devono trovare il modo per farlo parlare è già un pochino più appassionante poi Bundy parlava di tutte le sue malefatte in terza persona perché così stava raccontando ma non lo diceva di se stesso tecnicamente però poi ovviamente le prove erano tutte contro di lui se vi interessa il true crime se vi interessa questa questa roba qua consigliatissimo conversazioni con un killer Jeffrey Dahmer ok qualcos'altro? in realtà no non ho visto nient'altro ma bene chi passi a pal? passo la palla a Matteo vai Matteo io ho giocato scorta chi l'ha giocato? già è vero tutti tutti io ho poco però io ho giocato un astrologo io tutti no solo Massimiliano io l'ho finito è un gioco è un gioco è un gioco è un gioco che fanno cose più che altro c'è l'ambientazione particolare a livello di gameplay non dici niente di interessante e poi all'inizio mi avevo detto ma no ma è un gioco in cui cammini e risolvi i puzzle nì perché alla fine ho sparato tanto sì molto bene poi molto male penso sia stato fatto il proposito che il combattimento sia molto ostico o meglio vuoi stare così voi? diciamo brutto più che ostico sì è proprio brutto più che altro perché se me lo vuoi rendere ostico fai qualcosa di un po' un po' diverso rispetto a per ricaricare l'arma ci si impiega 20 minuti l'arma praticamente non ha feedback non lo so non lo so io sparare sono riuscito a evitare buona parte dei combattimenti perché tanto i mostrilli non sono non vengono ad attaccarti non sono aggressivi se tu li lasci perdere se ti avvicini se tu ti avvicini ti attaccano ma se tu li lasci perdere loro fanno il loro percorsetto da una tana all'altra fine ah sì sì per cui la cosa che ti dico è perché mettere il finale dove devi affrontare due boss due mostroni per forza a fucilate se hai fatto un sistema così di merda per sparare inventati qualcos'altro però non lo so ma quello del boss finale io non me lo aspettavo neanche ci fosse una specie di boss finale no neanch'io succede beh neanch'io però adesso me lo aspetterò sì vabbè tanto alla fine non non ce n'è più che altro hanno se non o meno hanno basato tutto su il design del mondo idea non c'è niente poi hanno fatto questa storia che c'è una storia ma non ti dicono un cazzo quindi vattela a cercare da te Dark Souls ha fatto 30 giochi così no è diverso no qua però non dicono un cazzo esatto che almeno volendo puoi Dark Souls ti danno degli indizi ti dicono qualcosa qua non dice niente ti butta in mezzo a un mondo non ti dice niente e non capisci neanche io ho dovuto vedere un video per capire che il protagonista cambia come la vita caro mio invece mi sa che non lo dovrò vedere sto video ma guarda non è chiarissimo però non si capisce che a un certo punto in poi non sei sono tre persone praticamente interpreti tre personaggi diversi due nel nel filmato iniziale e un altro dopo che fai esplodere la roba lì quella specie di serra fine sicuramente se andate a cercare qualche video scorn spiegato lo troverete subito cazzo giocate soma che come idea può essere simile ha comunque quel gusto ghigeriano da kronenberg vabbè ho capito per il gioco cazzo cazzo vedete per fattene esempio alla praticamente alcune leve si tirano con un'arma no c'è in fila dentro sto pistolone e le gira se tu non c'hai l'arma equipaggiata non te ne fa girare io sono stato a gira due giorni e che non sapevo che cazzo fa dovevo cambiare l'arma equipaggiata ma batte n'affanculo scorni scorni è proprio un gioco di merda poi sarà bella l'ambientazione io non metto in dubbio grande figo bellissimo è solo superficie cioè non mi serve a niente l'ambientazione super figa così se poi non c'hai proprio nulla altro da dove me comunica cioè perché poi paura non fa paura inquietudine non fa inquietudine perché è talmente poco ha talmente poco mordente che non non la sfrutta sta ambientazione così così peculiare capito cioè è solo buttata lì tant'è che per le prime due ore è un simulatore di tirare leve schifose non fai nient'altro e poi trovi le armi e combatti male esatto ma quanto mazzola non c'era questo gioco tipo 8 anni fa ma secondo me quanto vogliono? 40 euro basta sì sì ho visto nuovo no vabbè allora gente se non avete Game Pass non gioca molto finita così così per dire ma non lo so io ho giocato il prologo perché l'avevo supportato su kickstarter a me è piaciuto ma nel prologo cosa c'è? il prologo dovrebbe essere l'inizio del gioco quindi da quando ti risvegli fin tanto che non ah ok quindi comunque non è una cosa extra no 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 era una roba l'hanno fatto uscire tipo una settimana due settimane prima per il backer su kickstarter ma quanto d'ora è sto prologo buona mezz'oretta credo forse più di meno quarto dal gioco comunque è dall'inizio poi c'è quell'enigma della sedia per aprire la porta e poi devi insomma c'è quella parte dove ci stanno tutte quelle robe che fanno uscire fumo e tu devi riuscire a capire come fare e a me è piaciuto onestamente mi è piaciuto per l'ambientazione per l'atmosfera poi però cioè sento voi che ne parlate male ma soprattutto Biggio ho sentito te scusa Biggio Stefano ho sentito te su NG Plus che dicevi no è difficilissimo boh è vero che io ho un'intelligenza superiore ed è anche vero che io ne ho un'inferiore quindi non è che è difficile non si vuole piegare a spiegate nulla e quindi alcune cose che sono semplicissime diventano incomprensibili secondo me è anche quello il fascino della cosa cioè tu sei in un'ambientazione aliena e se si uscisse cioè che devi fare di uscillare che ti dice guarda adesso devi usare quest'arma su quest'olino altrimenti cioè per me ti farebbe uscire poi ripeto ho giocato solamente questa particina mi sarebbe piaciuto riuscire a giocarci un altro po' prima puntata però non ho avuto tempo però per quella particina che ho provato per me funzionava bene poi i dubbi sul combattimento ce li ho pure io anche se non essendoci ancora arrivato non posso dire niente però in effetti si da un po' l'idea che tra l'altro come dicevi sempre tu lo stesso ng plus quindi è colpa tua che dici no io volevo il gioco che si sparava boom boom e quindi io volevo un po' di spara boom boom quello si in quel mondo lì però c'è spara boom boom in quel mondo lì però è fatto male quindi invece di essere una roba di agonia di dolore eccetera eccetera hanno detto no mettiamo le armi per Stefano e hanno fatto ma anche nella scelta Bruno ma te lo ricordi anni fa uscì una specie di demo di scorn e lì si sparava mi ricordo armi sfidate per persone sfidate c'è sempre stato questa cosa che dovevi sparare non è che se l'hanno messa all'ultimo minuto ma secondo me hanno sentito Stefano su ng plus ieri e hanno detto allora mettiamo le armi dopo che è uscito il gioco tra l'altro e boh non lo so a me a me è quel prologo che ho visto ma mi ha intrigato molto poi ci sono quanti sono tre nemici in tutto il gioco tre varietà più il boss una cosa del genere per me l'ambientazione è molto bello ma a me piace molto quell'ambientazione però cioè in generale sia Giger che che Cronenberg comunque di Cronenberg c'è un cazzo e vabbè il body horror con le cose che si infilano non c'è niente dai su però a lei cos'è l'existence dai il body horror di quel genere lo fa meglio Dead Space tra l'altro ma a voi scusate voi visto che il body horror di Cronenberg è per raccontare qualcosa di politico se tu non mi devi raccontare niente è solo la superficie di merda perché è mischiato con Giger Giger non si racconta qualcosa di politico come no tutti i suoi Giger mostri sono sessocentrici ah va bene che politico scusa però il suo messaggio è il cazzo è il più grande cazzo vabbè non è una grande io parlo di politico a livello meno carnale parlo di politico a livello appunto più alla filosofico alla Cronenberg ma in questo caso mischiandoli assieme esatto mischiandoli assieme cioè non puoi fare tutte o meglio sì puoi fare tutte o due cose parlemente insomma lo fa insomma lo fa ma non lo fa ecco ma non è così Giger mi sto a ragazzi io ho una domanda per quanto mi riguarda almeno poi mi impressiona una domanda per voi che l'avete finito e forse non so se anche Stefano ci è arrivato a quel punto perché ieri ho sentito si era bloccato lì cioè quando all'inizio devi prendere Romino dal suo uovo lo devi portare in giro eccetera eccetera a me mi ha messo angoscia quella cosa onestamente di vedere quello che si contorceva che si lamentava tutto il tempo cioè per me non sarà politico non sarà quello però comunque cioè Dead Space quelle robe lì non me le trasmettere non so se pure tu Biggio l'hai preso alla fine Romino no Dead Space magari è più una roba alla disperazione ecco cioè nel senso che sei lì bloccato è quel cazzo di bot questo cazzo di pianeta alieno questo cazzo di opo Dead Space per me è più l'horror boh non voglio dire cacciarone però non è che mi ha mai messo veramente angoscia a quel punto è chiuso claustrofobico eccetera qui ok però è proprio un'altra situazione completa non riesco ad accomunarli c'è una volta c'è una roba comunque come scusa? dico c'è una volta quella roba poi per il resto del gioco fai altro che è molto alla fine c'è quella roba lì lì c'è la fine o se non spoilerate pure il finale magari no ma non ho detto niente robe simili non c'è niente di sì comunque ti trasmette questa cosa di questo mondo indifferente in cui fai di tutto per andare avanti alla fine ma come atmosfera secondo me è azzeccata però è il gameplay che proprio non non i gameplay perché c'è del gameplay non l'ho notato per me è tutto ambientazione cioè è tutto estetica diciamo però potevano fare un quadro perde un po' scusa no no però comunque la mia domanda rimane cioè a voi non ha messo angoscia quella parte lì a me ha messo angoscia no perché a livello a livello personale avevo già le balle piene del di come stava procedendo il gioco per cui una volta che mi togli quella diciamo tensione eh un pochetto sì una volta che mi togli quella quella tensione lì tutto il resto mi fa quasi ridere poi per la carità io non sono sicuramente il target ideale per questo genere di giochi per questo genere di ambientazione e quant'altro però porca paletta il momento lì dell'omino io ho sinceramente incominciato a ridere un po' perché bellissimo il sound design mettetegli qualche vocina in più perché uno che si sente proprio il loop del lamento mi fa cascare un po' tutto non so se mi sono spiegato sono profondamente deluso però vabbè dai io invece non mi ha dato noia perché tanto saprei già che facevi una brutta fine nel senso appena vedi quella seggela lì qualsiasi cosa finirà su quella seggela non farà una bella fine tu pensa che quel pezzo scusa Fabio adesso ti faccio andare quel pezzo lì l'ho fatto due volte perché mi mancava esatto mi mancava l'ultimo obiettivo e puoi sbloccare due obiettivi diversi in quella in quella sezione lì quindi l'ho fatto su tutte e due le seggiole sia quello ah lo può fare un domani diverso sì esatto cambio cazzo cambio cazzo se lo metti sul cucchiaione per intenderci il gioco è molto più veloce se no devi aspettare lui che ti raggiunge e gli metti la roba sul braccio e lo convince a mettere il braccio dentro il buco e due palle ah io l'ho fatto la versione più veloce allora eh sì 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 no comunque secondo me fallisce proprio nel crearti empatia tant'è che i mostri non si spaventano mai come fai a fare empatia se non ti dicono un cazzo ma sì sì ma è quello ma in realtà cioè ragazzi ma voi per provare empatia doveva dirvi ah questo cioè una volta c'è una famiglia adesso vedi poverino no non è così doveva uscire il vecchio che diceva ciao sono il saggio di questo pianeta lontano ti devo raccontare la storia The Witness che c'è la stessa diciamo la stessa idea all'inizio cioè ti lascio senza nessuna spiegazione in un mondo in cui devi farti strada risolvendo enigmi è molto più bravo a crearti empatia semplicemente con il linguaggio del videogioco e quindi ti crea per esempio The Witness verso cosa provi empatia verso il puzzle no però verso il mondo sì verso il creatore verso il mondo verso il personaggio verso cioè comunque verso chi c'era prima cioè questa narrazione di chi c'era prima quelle statue che sono quasi pietrificate che guardano l'orizzonte con i telescopi non so se ti ricordi c'è stata quell'altura che trovi tipo la gente pietrificata ah io ho visto due o tre filmati di The Witness però cioè non è un gioco che mi come dire no chiaramente non ti crea empatia però questo è un horror questo è un horror quindi ti deve creare la tensione perché altrimenti fallisce invece i mostri non ti creano nessuna tensione secondo me è più una roba di come dire mi viene la parola inglese gross out di farti schifo di metterti a disagio in angoscia e tutto e allora pure World Sugars One Cup ti mette a disagio e ti fa schifo ma non è detto che è un prodotto ma di un tipo diverso cioè non lo so io ho il disagio alla Dead Space il disagio alla Cronenberg che è il disagio eccetera eccetera cioè sono tipi di cose diverse a cui reagisco anche diversamente su alcune cose sono più resistente cioè e su altre invece ma qui il disagio qual è? al di là del gioco che è brutto qual è il disagio? il mondo in sé tutta la situazione lì è strano è come dire è strano un po' schifoso un po' insensato perché tu non sei lì e non sai bene cosa perché stai facendo eccetera e quindi ti lascia ancora più spiazzato e più ti dici devo fare cose schifose perché però le devi fare comunque se vuoi andare avanti al di là del fatto che siano fatte bene o fatte male però scusa ma il mondo non è pericoloso non c'è nessun nessun pericolo incombente non c'hai nessuno che ti corre dietro vabbè in teoria il mondo è pericoloso no? non è che che cosa è pericoloso? scusa? il mondo in sé è pericoloso ogni cosa vivente che incontri ti vuole ammazzare alla fine sì vabbè però diciamo che questa roba la provi dopo perché all'inizio tu puoi stare fermo otto anni nel corridoio non c'è niente che ti viene ammazzato al di là della noia di spostare uova per far uscire tizio dall'uovo però c'è un momento di Alien Isolation in cui tu vieni catturato dall'alien e ti muovi in dei corridoi gigheriani come questo qua che funziona molto meglio ma il nido sì esatto anche che quello lì fa da colpo di scena perché si può dire no nel senso che all'inizio se pensassi fosse soltanto uno in verità c'è un nido intero di che cosa? di Alien di Alien di Scor ah ma quelli delle uova no 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 di Alien Isolation ah in Alien Isolation ok stai parlando ancora di cose di Ago per quel poco che ho giocato nel prologo mi ispirava proprio di esplorare sto mondo fatto così ma non puoi neanche esplorare non puoi neanche esplorare sono dei corridoi sono quattro corridoi non è che c'è un'esplorazione sarà che magari peggiora molto l'uovo in pratica no è che rimane tutto uguale si ripete quello è il problema secondo me in pratica ma non ti adatti ogni atto è una zona chiusa e devi trovare il modo per andare alla zona successiva basta non è che comunque in 5 euro lo finisci tu mi direi ecco secondo me che manca la motivazione cioè nel senso perché devo andare alla zona successiva per andare alla zona successiva devo uscire da sto posto no sì perché ci devo uscire perché ci sono entrato e e appunto secondo me forse con qualche informazione in più ci sarebbe stato un po' più coinvolgimento per me è più bello non sapere niente sembra una tech demo ecco è più bello non sapere niente ritrovarsi là perduti ma sì a un certo punto se no è la tech demo del tirannosauro che cammina tra l'altro ci sono dei momenti molto belli artisticamente che però so sprazzi la maggior parte del tempo va passi dentro sti corridoi che sono quasi tutti uguali a livello di esplorazione di ignoto guardate dico una bestialità ma c'aveva molto più senso No Man's Sky all'uscita dove effettivamente non sapevi quello che trovavi cioè qui trovi dei corridoi alla fine è così Vabbè dai mi riservo di di tornarci quando l'avrò finito pure io magari però secondo me stare lì a vedere che non c'è nessuno che ti insegue o che non c'è una trama No ma non è il problema secondo me l'insieme si salva soltanto l'estetica poi a livello di puzzle a livello di sparare a livello non dico che è brutto non dico che è brutto come gioco ma è un gioco brutto però gli do la sufficienza nel complesso infatti citando Matteo a livello di puzzle pure che poteva essere il suo punto forte perché è quello che fai a maggior parte del tempo ma che cazzo si è inventato niente cioè i soliti puzzle accendi all'ucina si spegne quella vicino oppure sposta l'uovo per spostare i pezzi devi passare solo in certi binari veramente i puzzle visti rivisti rivisti non voglio richiamare in causa The Witness perché per paragone giustamente ci sono pure in chat è terribile però da quel punto di vista The Witness era geniale cioè doveva far solo i puzzle era geniale questo devi fare i puzzle vecchi dei 15 20 anni fa The Mist che poi la fine di puzzle non è che ce ne siano tantissime no infatti perché parliamo di 6 eh sì di nuovo sposta i blocchi accendi le luci con quella vicino che si spegne tutta roba proprio basica basica più divertente da giocare su youtube per quello infatti dico che rischia l'effetto tech demo bello da vedere ma e poi ricordo 40 euro no ecco 40 euro cioè per quanto io lo possa difendere 40 euro manco per il cazzo ma mai eh 40 euro gli do a qualcos'altro cioè non lo so sì io sicuramente non l'avrei giocato a 40 euro no 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 assolutamente basta eh però ragazzi per una volta che provano a fare qualcosa di diverso li molliamo così sti giochi no ma non è diverso non è diverso è quello che si vogliamo sì vabbè non è diverso però voglio dire che era più bello se era Dead Space o se era il Dark Souls che c'entra Dead Space eh che si spara bene in Dead Space cioè secondo me è un gioco poi tra l'altro un gioco così se spari bene ti no sono diversi cioè che fai ci metti le coperture i mitra la prima arma che prendi è un braccio che si allunga cioè ti dico solo quello ci sono arrivato pure io è un braccio che si allunga sai quanti ne vorrei va bene dai comunque ragazzi se volete la vira recensione di Scorn aspettate che lo finisco e poi queste erano false vi farò sapere no no non è che sono false però tu hai detto bene la prima volta che cambiano gli facciamo il pello contro quello poi abbiamo fatto due coglioni così a Death Stranding ecco allora quello è un gioco che prendi una formula la cambi mai detto niente non sto niente ho sempre detto bellissimo grande cojima non è vero Bruno grande cojima abbiamo del remix con le interessantissime con le interessantissime conversazioni su codec che non c'è eh vabbè c'è la radio ah scusa scusa non c'è il code c'è la radio quindi completamente diverso ma gioca a score no no ma cioè prima o poi giocherò pure a come si chiama Death Stranding aspetta stai aspettando che esca il prequel sequel che sarà annunciato probabilmente mercoledì da Konami figura non c'erano il remake di Serentino con Death Stranding di Death Stranding Mattia c'è l'altro ho visto Shulk ecco qua non guardate e cos'è che è peggio Shulk o Scorn no Matteo ma c'è no dai è peggio Shulk ma no è peggio Shulk porca no io non sono d'accordo peggio dei score no incredibile non son per niente allora diciamo che è una serie passabile diciamo però mi ha fatto cascare le palle l'ultima contata proprio proprio quella che era tutta a parte che l'inizio è fantastico con la cosa stile Frankenstein o anzi stile Hulk come si chiama con cosa con Luferrigno Luferrigno ecco che c'è all'inizio quello quello da solo vale e poi dai abbastanza vaneggioso particolare è una cazzo di serie a marvele ma se la tira dai ma dai è una cazzo di serie a marvele chi dici se la tira chi so con te Matteo no vogliamo i fari diversi quindi tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento non conto un cazzo ma fanculo dai però era così allora io non sono un esperto del personaggio dei fumetti ho letto qualcosa in questi giro e c'è un twist che sfonda la quarta parete alla fine dell'ultima puntata però è così anche nei fumetti esatto c'è poco da io che non conoscevo il personaggio mi domandavo sin dalla prima puntata dove volessero andare a parare con la faccenda che lei sfondava la quarta parete in questa maniera ma perché non sapevo niente del personaggio quando mi sono informato un pochino ho detto ah ok cazzo allora hanno fatto veramente una figata ed è tanto simile rispetto al alla controparte cartacea sì ma a me non ne frega un cazzo se hanno fatto bene l'adattamento del fumetto non ha senso non volevo la mega battaglia che era una cazzata quella che stavano a fare però arrivare a quel punto e fare a quella maniera lo possiamo fare prima no perché l'aspetto della quarta parete è come in Deadpool abbastanza fondamentale quindi ed è una serie comica tendenzialmente quindi non è una serie che si prende sul serio di base quindi chiaramente non si prende sul serio neanche alla fine cioè dici oh che cosa è sta cagata adesso vado a ma doveva far ridere non ho capito doveva far sorridere adesso che faccia non è che sta voglia a scompisciarmi eh anzi però è una roba che dici dai vabbè ok cioè almeno non è la solita roba allora io la dico secondo me secondo me con questa storia di Disney Plus stanno facendo peggio e già prima facevano delle micchiate raramente e boh non so neanche perché sto continuando a guardarle questa roba eh questo non te lo posso dire eh no ma guarda penso penso di saperlo perché non vuoi perderti il filo del discorso fondamentalmente perché allora io sto con un grande fan della Marvel quindi mi toccano anche queste cose allora non posso fare la battuta che sto per fare però no vabbè sai finché era finché era qualche film l'anno non lo potevo accettare ora con tutte queste serie ho visto ne è uscita anche qualcos'altro che è uscito Werewolf By Night che cazzo è uscito Werewolf By Night che non ho cagato di strisce ah ecco perché io metto il titolo e ho detto ok non lo guardo scusa ma te ma quindi se tipo vedete un film cioè li puoi vedere i film di sì no hanno messo no proprio è già anche anche Black Adam è già in programma madonna però quando lo vai a vedere devi dire ah che schifo meglio ma scusa ma non puoi fare a parte vabbè al cinema che viene male ma tipo a casa puoi anche fare altro mentre devi farci essere attentissimo no bisogna fare tutto e vabbè Cristo adesso cioè sino a un certo punto adesso io sono il primo ma sino a un certo punto vabbè se sei super fan mi metto a giocare a succhio non lo so no ma nel senso lo faccio anche perché poi ne posso parlare male sul free break ah per quello allora sacrifichi per la causa sì 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 allora è fatto bene allora bene quindi adesso perché se no potrei fare come la gente che non lo guarda e si lamenta però a me ispirava ne conosco io di gente così ne conosco a me ispirava come io vedete voi mi dite tanto invece scorno non l'ho giocato e mi ispira questo shulk non l'ho visto mi ispira poi non giochi alle cose dici che fanno cagare scusa ma a questo punto cioè ti rendi conto che il fil rouge è che no sono dei due è che sbagli giudizio perché sbaglio parli senza senza ma quindi come si dice cosa causa senza causa di effetto aspetta dai non mi viene senza colpo ferire no senza colpo ferire no l'altra fischio maschio senza ras stai dicendo che succede senza cognizione di causa ce l'ho fatto l'ho detto dieci volte non ti ho sentito scusa va bene sei diventato un po' Maurizio Costanzato va bene ragazzi che altro no io volevo c'è una domanda qual è la prossima qual è la prossima serie evento della Marvel che non ci possiamo perdere noi ragazzi che vogliamo io non lo so Secret Wars dovrebbe essere Secret Wars ma c'è a telefilm o telefilm di Secret Wars sì quello dove c'è Nick Fury che torna dallo spazio profondo e fa cose qua sulla terra scusa Secret Wars non era il mega crossover e va bene i fumetti invece nel telefilm faranno solo Nick Fury perché sennò ci dovranno mettere tutti i personaggi però per adesso il trailer che è uscito fa vedere soltanto praticamente Nick Fury non fa vedere nessun super eroe Secret Wars e Daredevil è vero Daredevil potrebbe essere decente state attenzione attenzione Secret Invasion non era Secret Wars ho detto Secret Invasion Secret Invasion è quello con i super sgrull guarda la mia unica speranza la mia unica speranza è che prima o poi facciano un punitore però fatto bene non come non con niente tra l'altro neanche l'ho visto quello là però è una di quelle che non ho viste non mi ispiro invece cioè Secret Wars e Secret Invasion sono due cose separate sì 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 ho sbagliato ho sbagliato io non sono un esperto della Marvel adesso lo sei adesso andiamo avanti ragione fatta chi passi la palla Matteo chi è rimasto Bruno io e Stefano Biggio vai dai dai e poi c'è Magdalen carini allora no ecco io di Scorn ne abbiamo già parlato abbastanza preferisco smettere invece vi parlerò di ah ecco me ne sono appena dimenticato benissimo io ultimamente cosa che inizio a dire le cose ah ecco ho visto Clerks 3 ah bravo ecco e ho visto Clerks 3 e è un film che vive grazie al fatto che esiste il primo Clerks praticamente perché in questo film senza fare grandi spoiler è la storia si vede dal trailer è la storia di come Kevin Smith ha girato Clerks però come interpreti a Dante Randall del del primo Clerks io amo Clerks ho visto tutto il guardabile e purtroppo oggi c'è visto che tolto il primo film e la serie animata che è molto particolare ma carina è una schifezza cioè Clerks 2 è orripilante e il 3 vive grazie al fatto che esiste il primo e in breve nella praticamente loro lavorano tutti e due sempre nel quick stop eccetera eccetera un giorno però Randall ormai sono anche grandicelli di età sia nel film che nella realtà un giorno Randall a furia di mangiare merda dal in cambio di un milione di euro no di mangiare merda dal come si chiama al fast food si becca un attacco di cuore e dice ma io nella mia vita non ho mai fatto un cazzo adesso decido di girare un film un film su che cosa sulla mia vita lì sulla mia vita quello che succede all'interno del come si si può definire un autogrill non lo so un grocery store una drogheria non lo so un supermercato non era una una videoteca no allora aspetta hanno sia il supermercato che la videoteca a fianco nel mentre però nella una tavola calda no 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 è più tipo un supermercato il pizzicagno il pizzicagno esatto il pizzicagnolo il come si dice il punto è che il posto cioè ecco nella realtà praticamente è ambientato i giorni nostri non è ambientato negli anni insomma anni 80 fine anni 80 quando l'inizio anni 90 quando l'ha girato Kevin Smith quindi alcune cose sono cambiate la videoteca è stata rilevata da J.S.I.L.M. Bob tra l'altro io voglio capire perché allora Kevin Smith è dimagrito un casino è questo però sia lui che J.S.I.L.I.L.I.L.I.L.I.A. sont arancioni stile abbronzatura finta stile Trump non lo so perché sono un po' emaciati e sono arancioni forse un po' di terizia sì ma boh Cioè di diuretici, non lo so, comunque loro hanno rilevato il coso e continuano e l'hanno trasformato, tra l'altro è super sponsorizzato dalla Raw per chi è un drogato sa che sono delle cartine sia corte che lunghe, anche chi non è un drogato di sfumare sigarette in effetti come hai sentito? beh sono tra virgolette recenti quelle che c'erano le cose blu, le azzurre no, quelli sono le smoking ah beh c'è le smoking blu c'è le smoking blu? io conosciò le Rizla Rizla, smoking blu tutte quelle belle cose e smoking blu però erano molto lunghe, cioè molto larghe e quindi? comunque, clerks comunque ecco, loro hanno rilevato sta cosa però comunque, nonostante l'erba sia legale lì vendono erba, continuano a spacciare davanti al posto quindi ecco, non lascio con la scena io l'ho trovata abbastanza divertente con loro due che continuano a fare tutte le cose losche di nascosto e Dante che gli dice guarda che è illegale perché continua a fare così? dice no, è così che si faceva gli anni 90 devo rimanere così dire finti tristoni nostalgici ecco, fatto sta che Randall inizia a girare clerks quindi con le parti varie ed eventuali che si vedono nel primo film fanno vedere un po' magari da dove ha preso ispirazione eccetera eccetera e quelle sono le parti migliori del film perché le altre parti prende, ecco ha qualche collegamento con clerks 2 ma pochissimi per fortuna le altre parti sono abbastanza inutili quelle extra la parte che riguarda il girare il film diciamo rivedere le scene del primo fa sempre piacere a chi piace ovviamente Terks e così via il finale molto commovente come dire Kevin Smith no, no, davvero davvero cioè Kevin Smith sa che probabilmente se ti stai guardando quello è perché ti sei visto gli altri e se ti piacciono gli altri e ti guardi il fine di quello e ti dà una bella botta al corazzone e quindi ecco diciamo che è un film debole sorretto dal fatto che sia da un film estremamente forte come era Clerks il primo con ecco spiegazioni anche alla fine proprio nei credits c'è Kevin Smith che parla e dice perché l'aveva girato in bianco e nero ad esempio io consiglio poi il making of perché per una serie di motivi uno è che dice che le luci e i colori lui girava di notte di giorno lavorava lì in quel posto e ogni tanto nella videoteca perché era stato fregato dal proprietario della videoteca che gli aveva detto sì sì tu lavori nella videoteca lui era appunto grande appassionato di film e ogni tanto dai una mano nel supermercato invece è finita che lavorava il supermercato e ogni tanto dava una mano nella videoteca e dice che le luci del supermercato facevano schifo in più voleva che l'effetto fosse un po' quello del da una telecamera di sicurezza diciamo come se fosse visto attraverso una telecamera di sicurezza degli anni 80-90 ecco e quindi ha inserito tutta una serie di cose nel film ha detto volevo che anche voi vedeste ecco alcune parti del film non sono cioè sono diciamo romanzate altre parti invece sono per collegarsi al primo film e altre parti invece sono effettivamente cose successe consiglio il making of di Clerics per chi è un appassionato saluto Gamination che è un grande appassionato sì sì nonostante tutto ha fatto anche cose buone ha visto anche cose buone quindi assolutamente non guardatelo se non vi piace molto Clerics 1 se vi piace molto Clerics 1 e versate lacrime alla fine è normale non vi preoccupate ragazzi è così Clerics è così ma a voi piaceva così tanto Clerics 1 cioè io mi ricordo un bel film di Arino ma non una roba spaziale boh io ci sono cresciuto diciamo guardandolo riguardandolo delle cose che cito ogni tanto che con mia madre cioè che me lo fece conoscere e così via poi purtroppo ecco lentamente peggiorato almeno Kevin Smith per me è lentamente peggiorato sempre di più ma questa è un'altra è un'altra questione però anche i fumetti ha fatto tipo un ciclo su Daredevil no ma è un grande cioè è un grande appassionato di fumetti e quant'altro e anche scusa Iman ad esempio c'era lui di mezzo ah è vero è vero bello Iman insomma ecco però diciamo che è molto cioè è molto personale la sua visione è estremamente personale quindi o ti piace o la condividi o cioè è difficile che ti piaccia ma le cose che ha fatto dopo raramente sono piaciute un po' in cerca di E mi era piaciuto tutto sommato e altre sono cose davvero che forse vanno bene quando sei adolescente a malapena a malapena quello ecco clerks però inquadra bene la vita diciamo americana di quel periodo è il personaggio principale di Dante task non l'ho visto sì è suo ma non l'ho visto perché dopo un po' mi sono molto bello vedi ecco ovviamente non ho visto uno di quei dei pochi decenti che ha fatto dopo cioè lì poi avevo visto no scherzato fa abbastanza cacare però ecco ma mi sono visto pure appunto cosa Dogma Mallrat che è l'italiano era diventato Generazione X dove c'è Stan Lee tra l'altro e parla con con quello che che faceva Earl di My Name Is Earl e gli diceva ma perché il tuo amico è fissato coi genitali dei supereroi e poi anche cos'altro che avevo visto e cos'altro che Jason e Bob colpiscono ancora quelli però comunque vabbè e questo è uno e questo questo è uno quindi vabbè però appunto forse è una cosa mia personale che sono molto legato a quel film è a Dante per i grandi punti esatto io ne approfitto vi saluto eh madonna santa ciao Fabio esatto ti lascio andare stavolta ragazzi domani i mustacchi Fabio esatto mi raccomando se domani non sei in forma diretto Zurico Roma giubbotte lo sai va bene allora domani non sarò in forma quindi comincio a comprare i biglietti perché vuoi perché vuoi essere picchiato va bene ciao 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 e niente o Massimo pure tu se devi andare ti fa problemi Massimiliano no no Max scusa Max non tranquillo ho notato ecco chiudo dicendo che ho notato mia madre mi accusava di essere come Dante nel primo Clerks io ho notato che ho smesso di essere Dante come il primo Clerks e ho iniziato a essere come Dante nel terzo Clerks adesso quindi insomma cioè spero che appunto spero però ecco di avere delle differenze o di superare la la cosa comunque vabbè Andor su Disney Puss Andor una serie a cui io non davo ma un soldo bucato ma manco mezzo stile Watchmen sulla HBO e invece meglio di quanto sembri non è molto Star Wars devo dire perché potrebbe essere un film di guerra di qualunque tipo o una serie di guerra di qualunque tipo però con tutte le cose ambientate nel mondo di Star Wars che secondo me è forse anche il metodo migliore per fare i vari Star Wars diciamo come il Mandaloriano prende fa il western e quando fa il western ci riesce benissimo ed è bello da vedere da guardare e non solo il western eccetera eccetera o no ho detto eccetera 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 Lizy non vuole che io dica eccetera eccetera adesso mi darà la come si la 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 pumpa come nel silenzio degli innocenti comunque quindi quindi Andor funge da prequel a Rogue One che funge da prequel a episodio 4 ovvero è la storia di del del tizio di uno dei tizi che si vede in Rogue One che sono che è la storia di quelli che rubano i piani della morta nera per poi consigliarli a lei eccetera eccetera rubavano i piani della mortadella perché perché c'è lo stesso simbolo di Quake Andor è ambientato nello stesso universo eh sì esatto eh sì sì no no non è vero mi dispiace ehm no praticamente quindi questo qui originario del pianeta lui è una minoranza è tipo l'ultimo della sua specie è una roba così eh specie quelle con i buff no no sì sì esatto umanoide la specie è già a me ricorda un tizio che conosco che conoscevo che si chiama Gianni quindi io continuo a chiamarlo Gianni questo eh quindi questo Gianni eh viene insomma eh vive un po' alla buona eh la serie è abbastanza lenta eh inizio a dirlo da subito i primi due episodi sembra che non vadano a parare quasi da nessuna parte o lo faccio in maniera un po' pallosa in realtà poi dal terzo in poi secondo me inizia ad avviarsi eh i primi due fanno molto da da spiegazione del 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 mondo da introduzione diciamo di quel periodo lì e di come dove vive lui cosa fa chi sono i suoi amici eccetera eh e lo fa in maniera lenta quello è un po' un problemuccio infatti all'inizio ho detto boh vabbè interessante ma che e può scoraggiare decisamente in realtà la serie è fedele ecco ho notato una ricostruzione molto fedele dei costumi eh di guerre stellari dell'episodio 4 quindi quelli un po' in stile eh nazist anni 70 eh diciamo eh quello è fatto eh eh è davvero realizzato bene l'hanno l'hanno curata come come cosa e non ha cioè Jedi non se ne vedono tutte quelle cose lì non ci sono è una serie molto più seria rispetto a e con una dignità molto maggiore secondo me rispetto ad esempio a quella di Obi-Wan che pur essendo più eh scattante più veloce l'ho trovata insomma niente di che questo invece ha ha molto più mordente molto più molto meno per bambini ecco eh se la prima serie cioè se se appunto se Obi-Wan Kenobi era non lo so forse per quelli che avevano visto eh i prequel e gli erano piaciuti perché i prequel da bambino li ho visti anche io però insomma un paio d'anni dopo ho detto aspetta cosa è questa cagata in ogni caso ecco questa invece no non è vero consiglio anche Clerks ma questa se siete appassionati di Star Wars decisamente ma in generale anche come serie al di là della passione per Star Wars è una serie adulta e ben realizzata dove hanno speso sono sei episodi quindi niente di che ottimi effetti grafici ma non c'è bisogno diciamo di grande CGI perché praticamente c'è un droide si vede all'inizio cioè nella serie e poco altro il resto sono proprio delle cose minime è una storia abbastanza normale tra virgolette per essere guerre stellari cioè non hai spade laser non hai combattimenti scenici acrobatici eccetera eccetera tutt'altro e più la storia appunto di questo qui e sapendo poi quello che succede dopo assume un po' di interesse ma ecco la prima serie la prima stagione non si collega al al film a Rogue One probabilmente dopo si arriverà a un punto dove ci serve il collegamento diretto tra Rogue One e Andor che appunto io pensavo fosse una schifezza l'ho visto proprio per per dire vabbè vediamo com'è e poi almeno posso dire che l'ho visto per cognizione di causa e invece l'ho posto come Watchmen su HBO che consiglio Rogue One idem film bellissimo secondo me sono dei migliori Star Wars recenti se non il migliore scusa quale adesso meglio non dico niente meglio di Rogue One no però secondo me è lo stesso livello della Jedi la Jedi è l'ultimo della trilogia no è il penultimo è quello con le mucche spaziali la Jedi è quello con l'Eia che vola nello spazio no ecco allora adesso siamo proprio cioè lì è come dire dici guarda hanno vomitato o è un film di Gore Stellari e ne parleremo poi va bene comunque non lo so ecco io l'ho visto racconto sempre la cosa l'ho visto al cinema ricordo la faccia di Lizzie che guardava la mia faccia mentre io io ridevo in maniera isterica vedendo quelle scene lì Guani invece l'esatto opposto però io ho sentito le critiche che dicono che almeno Last Jedi provava a fare una cosa nuova diversa invece poi per colpa di voi fan come te e Lizzie hanno fatto il terzo episodio invece era proprio una roba super scontata a te invece l'ultimo episodio è piaciuto di Guerra Stellari sì quello che l'hanno fatto i fan ah guarda mi è piaciuto più del penultimo della trilogia nuova ma mi ha lasciato abbastanza indifferente ed è qui che finisce la nostra amicizia perché la scella di Skywalker è un film di merda ah beh ma non è che sto dicendo che siano dei capolavori sto dicendo che se nella nuova trilogia l'ultimo però è un capolavoro no 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 sto dicendo che quello però a confronto di The Last Jedi è un capolavoro no a confronto di The Last Jedi anche Claire è un capolavoro non sono per niente d'accordo veramente potremmo parlarne per ore esatto infatti comunque appunto questa mia persona è classifica della nuova trilogia il primo ok il secondo lasciamo stare il terzo ok ma meno del primo e basta e poi questa è finita la trilogia e Rogue One superiore a tutti assolutamente e pure a questo visti al cinema che dici ah ma l'hai visto l'ho visto al cinema l'ho rivisto a casa cioè non c'è niente a fare eh sì ma non devi avere sta mo' sta sta no l'ossessione come si dice sta paranoia che ogni cosa ah l'hai visto al cinema eh cioè no no beh sai che c'è gente che dice per quanto mi riguarda te lo potevi dire pure al cellulare mentre stavi al cesso il tuo parere comunque non è usciva sminuito beh vabbè come dire magari c'è anche un modo migliore per furire certe cose che te le rende eh più piacevoli ecco eh per dire non lo so piacevoli di vederti l'accesso eh effettivamente è come Harry Potter cioè che io dicevo ma vabbè sarò io che lo sto ho detto proviamo a furire i libri i film l'audiolibro continua a non piacermi ho detto ok forse non mi piace Harry Potter punto non è che non lo sto prendendo dal lato giusto perché a volte ti dicono sai non devi non fare così lo devi vedere cosa eccetera eccetera quindi io ognuno ha ha le sue vabbè in ogni caso Kandor quindi non lo so consigliatissimo se volete una roba di Star Wars un po' matura eh e se meglio o peggio del Mandalorian e allora come lentezza eh peggio come serietà diciamo cioè a livello di stronzate tipo Baby Yoda e tutte quelle cose lì eh molto meglio eh manca proprio dell'ironia che c'è solitamente nei Guerre Stellari con le battute ecco le battutine eccetera non ci sono proprio zero eh il che è un bene e un male allo stesso tempo la versione DC di Guerre Stellari eh esatto esatto una roba così però non non brutta cioè va bene basta credo di aver detto tutto sì Scorn ne avevo già parlato ok allora vado io cercherò di essere molto circonciso mi sono visto un film che avevo visto da bambino un film horror che mi aveva molto colpito si chiamava Terrore dall'ignoto aspetta cerco il nome from be titolo originale eh sì from beyond eh Terrore dall'ignoto la trama è che c'è questo ci sono questi due scienziati uno è giovane e uno più grande che è anche un pervertito sadomasochista che costruiscono un macchinario che provoca delle vibrazioni che stimolano la ghiandola pineale e questa questa stimolazione sì 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 Matt ispirato a Lovecraft ah è quella della trilogia bello sì diciamo è lo stesso autore di come cazzo si chiama Reanimator allora è un'altra trilogia scusa non ho mai visto Reanimator però ho visto from beyond bellino Reanimator guardalo se ti piace questo guardare ma questo diciamo che c'è un po' la nostalgia di quando ero piccolo però rivedendolo ho pensato beh e vabbè comunque prendono sta cosa che crea delle vibrazioni che stimolano la ghiandola pineale e stimolando la ghiandola pineale riescono a vedere delle creature che abitano il nostro mondo ma che normalmente non si riescono a vedere perché appunto non abbiamo la ghiandola pineale abbastanza potente e però il problema è che se riesci a vederle tra l'altro c'è un grande Commodore 64 nella scena iniziale come computer se riesci a se tu riesci a vederle anche loro riescono a vedere te e quindi praticamente loro attivano sta macchina diventa tutto viola tipo il più recente colore dello spazio con Nicolas Cage e incominciano a vedere ste specie di pesci che fluttuano tra l'altro effetti speciali veramente strabilianti ste specie di pesci che fluttuano nell'aria ovviamente va a finire male il professore quello anziano viene ucciso da uno di sti mostri ma poi di nuovo ricompare in questa in questa specie di sentito parlare dal frusciante il frusciante sicuramente avrà detto capolavoro bellissimo effetti speciali e quindi il professore viene ucciso da uno di sti mostri tra l'altro è stato girato in Italia e dove si vede secondo me che è stato girato in Italia perché c'è la coprotagonista Barbara Crampton che era una gran figuona in questo film a un certo punto giustamente il professore che dicevo sarà la quarta volta che lo dico è stato mangiato da un mostro però poi ricompare nella dimensione X perché poi alla fine hanno tutta questa cosa che no dobbiamo accendere la macchina però la voglio accendere la femmina dice così no perché combina guai sempre la femmina in sti film ecco qua si sa sì la femmina è fatale esatto e quindi l'accendono e si ripresenta il professore che però diciamo in questa dimensione che è un po' sì sei ispirato all'Hovecraft è un po' come dire sei andato hai conosciuto i grandi antichi cose del genere quindi il tuo corpo ne è rimasto trasfigurato lui dice adesso ho pieno controllo di tutta la mia materia incominciano tutto a che gli escono tentacoli c'è un mezzo tentacle rape in questo film quindi e lei è molto carina si vedono anche due tette molto molto ben fatte a un certo punto a un certo e qui si vede che è stato girato in Italia perché sicuramente ci sono stati produttori italiani che hanno detto come in From Immortal scusate From Immortal come Immortali esatto infatti dicevo e poi a un certo punto ovviamente stimolando la ghiandola pineale si stimolano anche i desideri sessuali non si sa perché quindi lei a un certo punto sta super arrapata e cerca anche di abusare sessualmente il ricercatore giovane che nel frattempo era stato ciucciato da un mostro che gli stava ciucciando la testa e praticamente ne esce fuori senza capelli però nel frattempo lui comunque stimolando a un certo punto la ghiandola pineale gli esce di fuori tipo una roba un po' alla Cronenberg si un po' sembra il feto di Eraserhead però in versione minuscola che gli esce dalla fronte Umbrella Entertainment tra l'altro si bellissimo e quindi gli esce questo questo pirulino dal quando l'ho visto da piccolo mi aveva spaventatissimo quando usciva quella cosa mamma mia e poi c'è anche la ricercatrice perché la biondazza è la ricercatrice buona poi c'è anche la ricercatrice quella brutta tutta acida che vuole seguire le regole quindi che schifo e c'è anche il nero tra l'altro il nero che ovviamente è quello di zombie per chi se lo ricorda quello che disse la battuta bellissima l'unico stronzo che potrebbe mancare il bersaglio con sto fucile è quello che c'è i soldi per comprarselo e lui ovviamente fa la parte del poliziotto ex giocatore di football che tra l'altro dice mi chiamo Tizio e Caio ma gli amici mi chiamano Bubba ecco tutto risolto e lui fa la parte ovviamente del poliziotto tutto di un pezzo che mentre che vede questi due il ricercatore giovane e lei che stanno super arrapati perché gli stivano la gandola pineale lui è quello che mantiene la calma che prima gli avevano detto mi raccomando quando accendiamo la macchina non vi muovete se no vi vedremo i mostri appena accendono la macchina lui si dice oh che cazzo sto qua e si muove i mostri gli arriva sta specie di medusa che gli azzanno un braccio e va a fanculo e poi il bello è che la mattina dopo fa c'è lei che fa e si stimolando la gandola pineale si possono anche stimolare i piaceri sessuali per quello che c'ho il durello ieri che grande è bubba e poi purtroppo fanno a brutta fine bubba e ovviamente anni 80 e il bello la cosa bellissima è che vabbè a un certo punto poi vengono tutti e due portati sto manicomio lei viene liberata però lui nel frattempo visto che gli hanno stimolato la gandola pineale diventa goloso di cervelli e quindi attacca la gente gli ciuccia il cervello dall'occhio praticamente gli morde l'occhio gli ciuccia tipo Hannibal del silenzio innocenti però molto prima quindi Hannibal non è inventato niente è inventato tutto non ci ha inventato tutto qua e la cosa bellissima è che lì scappa da sto manicomio non mi ricordo se scappo la rilasciano comunque torna alla casa dove c'è sta macchina che produce queste robe qua e porta con sé sì no Matt ha raccontato tutto il film ma non è che ci sia cioè spero che non vi non vi dispiaccia non è che ci siano colpi di scena no però il colpo di scena vero appunto è questo che lei esce dal manicomio e torna nella casa dove c'è sto macchinario che sblocca sta dimensione e ci torna con una bomba con il timer a orologeria che ti cioè uno ci pensa quando facevano sti film cioè oggi noi tutti ah ma questo non è verosimile ma come ha fatto quello a fare qua invece abbiamo sta gente che così ricercatore professionale eccetera eccetera però all'occorrenza sa anche dove trovare dei candelotti di dinamite con il timer per far saltare tutti in aria erano tempi così e ovviamente se siete fan degli effetti analogici speciali fatti con gli animatroni e tutto quanto è abbastanza vedibile però onestamente non lo consiglierei ripeto io me lo sono me lo sono ho visto anche un po' di critiche rispetto a Reanimator è un po' un come dire una brutta copia un mezzo seguito uscito male per le critiche che ho letto diciamo che la maggior parte dicono Reanimator imperdibile questo qua un po' meno anche se alla fine il regista lo stesso anche il cast credo che sia più o meno quello lì e con Lovecraft c'ha a che fare poco non ci sono non c'è la mitologia di Lovecraft c'è solamente la suggestione appunto delle creature che vivono a fianco a noi e noi non le vediamo e se le vediamo poi anche loro ci vedono e vaffanculo beh c'è in un racconto nel senso appunto nel racconto da cui è entrato c'è esattamente questa cosa del macchinario chiaramente però ambientato negli anni 20 quindi a prima fino a 800 c'è questa cosa qua del macchinario che ti fa vedere questi pescioni strani eccetera eccetera e poi li vedi loro vedono te tu vedi loro ma le similitudini finiscono lì cioè finito il resto la parte sessuale credo che Lovecraft quella roba non ne metteva non ne ha mai messo non le toccarono no 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 anzi pure poche femmine nel racconto di Lovecraft sì 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 aggiungerei anche giustamente ma questo detto tra di noi adesso no però ripeto di buono c'è che dura poco dura un'ora e mezzo e anche qui cioè pensi ai film moderni che devono durare tre ore per raccontare tutta sto qua invece subito chi sei sono Bobba subito hai definito tutto il personaggio senza tante tante pugnette tu chi sei sono il professore anziano Sadomaso tra l'altro c'è anche vi spoilerò pure sta cosa perdonatemi c'è anche la stanza dei giochi il professore Sadomaso e la prima cosa che fanno trovano una videocassetta dove lui sta frustando sta frustando una e però poi mentre la frusta dice ah ti voglio baciare ti voglio baciare e quindi le dà un bacetto e niente From Beyond ripeto era una roba che era un film che ho visto da piccolo e quindi mi era venuto lo sghiribizzo di rivedermelo si trova su Amazon pre in video però solo in italiano e invece io me lo volevo vedere in lingua originale quindi me lo sono trovato per quanto mio che dire ripeto vedete boh magari se è una serata con gli amici a ridere eccetera eccetera secondo me vi fate anche delle due risate perché ripeto visto visto oggi è molto camp molto anche gli effetti speciali sono molto sono quegli effetti speciali che rendevano molto se eri piccolo e li vedevi su una tv a tempo catodico da 14 pollici all'epoca però a vederli così in alta risoluzione purtroppo a me piacciono ancora almeno da un certo punto di vista perché ecco c'è la cosa che sono veri cioè nel senso non è la cosa come dire al computer finta magari è fatta meglio però so che è una maschera che è una roba fatta un prop però è vero cioè è tangibile non è cgi ecco mettiamola così diciamo ste che ci sono alti e bassi esatto esatto alcuni effetti tipo anche il professore tutto deforme che si vede anche qua nel trailer sono fatti bene altri tipo quando la medusa azzecca a boba è veramente una roba fatta di plasticaccia peggio ancora quando si vede lui che vede i cervelli in trasparenza della gente proprio hanno disegnato un cervello sul fotogramma a mano e anche il mostrone là che ci ciuccia via i capelli insomma si vede che sono robe fatte cioè alcune robe sono fatte molto bene se volete se non lo conoscete volete vedere un film diciamo con questi effetti speciali di questo tipo però fatti bene fatti in maniera moderna vi consiglio e questo è anche un consiglio di frusciante che però ho apprezzato molto vi consiglio The Void che è veramente figo non so se qualcuno ah sì sì ne parlai io proprio su Free Playing quando uscì come vero film Lovecraftian sì sì quello è veramente figo anche effetti analogici quindi ve lo consiglio poi molto brevemente mi sono visto l'ultima stagione di Carb Your Enthusiasm che è uscita l'anno scorso ce l'avevo là sono dieci puntate fanno ridere 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 e lui è veramente un maestro lui o chi altri scrivono le puntate sono veramente dei maestri nel gestire il ritmo della comicità perché funziona cioè lo schema ormai dopo undici stagioni più o meno è quello cioè ti inseriscono un elemento poi te ne inseriscono un altro poi riprendono il primo elemento poi riprendono il secondo e poi alla fine diciamo che riannotano tutto quanto insieme e ti fanno esplodere con la risata per fare un altro spoilerino c'è una puntata dove c'è il tizio nero che vive con lui che si vergogna di mangiare il cocomero davanti agli altri perché si vergogna perché dice no tu non mangi mai un cocomero davanti agli altri se sei nero e poi nel frattempo deve conoscere una ragazza però nel frattempo vanno a fare la spesa al supermercato si è dell'Harry David che lo incoraggia dice dai dai compra il cocomero compralo non ti vergognare lui tutto non lo so e poi dicono qua bisogna mangiare il cocomero è buono il cocomero eccetera eccetera e poi alla fine arriva la ragazza a casa e li trova che stanno mangiando il cocomero e quindi rimane sconvolta e se ne va ed è tutto così è tutta una roba di incastri a puzzle ogni puntata è veramente bellissimo poi c'è la moglie del suo amico che è stupenda sempre incazzatissima e poi è bello anche perché fa tante battute scorrette però sempre con quella legge ecco lui è veramente uno che ha fatto tanti 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 soldi non si frega più di un cazzo cioè non non è mica davvero sì no ma c'è c'ha quella leggerezza cioè non è come gli stand up si può dire più un cazzo che cazzo io quando ero giovane c'avevo un amico che c'aveva la moglie che mangiava i bistecchi lui invece c'è se ne frega del cazzo di tutto è bellissimo poi che si mette a fare discussioni su ogni minchiata e parte per per una roba e comincia a discutere che cazzo ne so va al ristorante giapponese e si mette a discutere sulle bacchette che sono lunghe che sono corte perché so così perché so cosa questo me lo sto inventando io non lo fa è vero però fa tutte discussioni di questo di questo tipo ma anche quando tocca le robe diciamo più sensibili da un punto di vista politico non si mette mai la diventa pesante è sempre leggerissimo tranquillissimo anche quando si incazza poi cioè veramente è una serie che vi consiglio proprio tantissimo se volete ridere e e volete ridere bene non ridere con con le stronzate dei meme dei stand up che dicono le puttanate eccetera eccetera ultimissima cosa canale youtube off the shelf reviews che sono due tizi che fanno è un po' come good bad flicks però parla di film meno scuri quindi ci stanno sti due tizi che fanno ste recensioni di film che ne so io ultimamente mi sono sentito hanno fatto tutte le puntate su sui vari eraser i vari venerdì 13 eccetera eccetera ma si chiama off the shelf review off the shelf ah ok conosco pure è bello perché comunque dicono un sacco di trivia un sacco di curiosità e tipo dicono ah questo film c'era il direttore della fotografia così quello che ha fatto gli effetti speciali così quando hanno fatto la lavorazione che ne so gli è caduta la testa e quindi in quella scena si vede che gli cade un po' la testa un po' storta tutte ste cose qua molto figo sono molto molto nerd quindi sanno tutti sti trivia però poi magari da un punto di vista diciamo della critica proprio artistica tra virgolette forse sono un po' carenti però per i film diciamo nerd eccetera eccetera vanno benissimo hanno fatto anche che ne so la recensione di The Running Man con Schwarzenegger bellissima e tutte ste cose qua quindi ve lo consiglio basta basta che è tardissimo non so se Max e Matteo ci sono ancora siamo ancora ci siamo ancora più di là di qua senti qua e niente ragazzi questa è stata puntata 512 di freeplaying vi ricordo se ci volete supportare patreon.it paypal.it oppure abbonatevi su twitch con il prime se ce l'avete se non ce l'avete tranquilli e io sono stato Bruno come c'è stato Stefano ciao Stefano ciao grazie guardatevi te ciao ciao Max ciao 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 Matteo ciao Matteo ciao Fabio che sarà già dormendo vedo lui ciao ci vediamo alla prossima puntata fatevi ciao 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 ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.